buongiorno bentornati su high five e benvenuti a tutti quelli che sono già presenti nella chat quindi direi un bel buongiorno ad angelo buongiorno a zel maui sempre presenti loro da questo punto di vista buongiorno a kiro noa poi abbiamo love em sawyer buongiorno anche a te e poi fanno mille richieste con i vari bot tempo eccetera molto bene vedo che love em sawyer si è abbonato per nove mesi ottima ottimissima mossa brava ottima mossa da fare e poi abbiamo altri abbonamenti giochi in giro per 35 mesi attenzione questa è stata una mossa per passare in vantaggio e una zampata affettuosa a tutti a tutti dal nostro alberto il lupo ben arrivato anche a te sempre presente per il nostro teo vi faccio i cuoricini come fanno i veri streamer su twitch grazie huga si è abbonato per 16 mesi wow ma che bomba tutti questi abbonamenti così bravi perché c'è la barrettina degli abbonamenti che siamo quasi arrivati in fondo se ve lo state domandando sono in maniche corte ma non fa così caldo può darsi che debba andare poi magari a prendermi un felpino un qualcosa spero di no magari muovendomi che mi devo un po fomentare durante la live magari non ho bisogno magari sì è che sono arrivato a casa tardissimo sono uscito da scuola 12 e mezza il tempo di arrivare a casa tipo mi sono buttato giù il caffè e dei pezzi di pins avanzati ieri sera non necessariamente in quest'ordine un po mescolati fra di loro e sono venuto su messo il telo fatto tutto velocissimo sono accaldato in questo momento sono accaldato quindi non percepisco freddo però un po freschino fa ve ne frega il giusto probabilmente di queste cose ci vediamo al ticket tu bra no purtroppo non ci sono quel weekend sono impegnatissimi infatti sapevo che c'era questa cosa non non riesco a esserci caro alberto come state allora avete visto che ci siamo spostati un pelo più avanti sul high five di solito la prima settimana siamo alla seconda perché settimana scorsa abbiamo consegnato le pagelle a scuola facciamo questa cosa particolare che secondo me potrebbe essere un po adottata dalle altre scuole è molto sbatti premetto questa cosa cioè che diamo una specie di pagellino a metà quadrimestre è fittizio cioè non è una vera pagella è una cosa che a metà quadrimestre dice come sta andando con le varie materie come si è messo con le assenze così puoi tirarti in bolla e finire il quadrimestre come si deve così come noi professori possiamo cominciare a prendere provvedimenti insomma capire un po come gestire alcuni ragazzi così vi volevo raccontare questa cosa secondo me è molto interessante molto sbatti perché di fatto facciamo due scrutini in più all'anno con tutto quello che ne deriva più l'incontro con i genitori però vengono anche tanto i genitori proprio perché questa cosa capiscono che serve per sistemare gli altri due mesi che mancheranno zelmawi ci dice dopo aver preso l'espansione di bitoku la tomaglia ci sta come il pane e vedi molto molto giapponese da questo punto di vista in realtà prendo molte cose che hanno questa onda di kanagawa mi piace moltissimo questa cosa dell'onda eccetera quindi spesso già solo che c'è presente un'onda mi ispira quindi non sono così fan magari del ramen con i pezzettini eccetera però c'è l'onda e quindi ne ho anche una tipo con il caffè che fa l'onda eccetera chironoa mi chiede che materi insegno allora sono in un professionale a novara e quindi insegno idraulica gli idraulici meccanica barra tecnologia e meccanici e matematica no meccanica scusate matematica tecnologia e meccanici e matematica alle ragazze di moda abbiamo anche l'indirizzo parrucchiera ma non mi fanno insegnare alle parrucchiere si vede che non ho la capacità di fare perché no semplicemente che ho già tantissime ore così quindi queste sono le materie quindi idraulica tecnologia matematica siamo alle superiori quindi mi piace molto interagire con i ragazzi insomma con gli adolescenti questa cosa del doversi anche confrontare scontrare però vengono fuori delle cose molto belle ed è quello che a me piaceva fare ho proprio appena mi hanno chiesto se avessi voglia di insegnare le superiori ho mollato mondo aziendale per dedicarmi proprio su questo fronte qua insomma era un po la mia la mia spinta il mio afflato allora direi che possiamo un po iniziare la nostra carrellata e in realtà questa volta ho imparato dopo n mila mesi che facciamo questa cosa ho imparato perché vedete qua in alto che il carrello mostra 12 avevo messo ben 14 cose ieri sono andate 12 perché le altre volte se vi ricordate ne inserivo 12 ma finiscono perché su dungeon dice la gente compra e quindi ho detto ah ne aggiungo un paio in più in modo che domani spero che siano 12 così è quindi bravi che avete comprato delle cose e ho capito qual è la tecnica quindi ci ritichiamo dai 5 perché è la prima volta che è qua a bordo del nostro furgoncino verde vi dico cos'è ci guardiamo insieme le classifiche dei giochi più venduti nel mese appena trascorso in tutta la filiera dungeon dice negozi online e negozi fisici e affiliati si parla di giochi da tavolo giochi di ruolo e libri game nel frattempo inserisco 12 robe nel carrello che sono cose nuove cose vecchie cose che mi vengono in mente insomma consigli di giochi che potrebbero esservi sfuggiti e se non sapete bene cosa comprare può insegnarvi il buonteo che cosa acquistare quindi partirei come sempre dai libri game barra giochi di ruolo così poi intervalliamo con i giochi da tavolo vi chiedo da dove volete partire se avete necessità preferenze tipo facciamo subito i giochi di ruolo perché poi devo tornare al lavoro queste cose qua nel frattempo spero che non ci sia nessun ragazzo collegato perché ho scoperto che un'ultima volta c'era qualcuno collegato durante la lezione cioè da un lato mi fa piacere ma dall'altro sono professore e quindi non va bene questa cosa dovete seguire le lezioni se avete preferenza libri game ok prendo questa cosa love em sawyer quindi libri game vado nei consigli abbiamo già visto un'altra volta vero queste categorie le vostre recensioni i vostri ultimi acquisti ve le faccio vedere velocemente nelle vostre recensioni avete tutte le recensioni che sono state lasciate nei vari giochi in ordine cronologico quindi può essere un'idea sbirciare quali sono i voti dati alle varie ai vari titoli per provare a vedere se c'è qualcosa che vi può ispirare così come i vostri ultimi acquisti è una cosa aggiornata in tempo praticamente reale l'ultimo aggiornamento alle 12 45 di oggi 12 55 scusate di oggi quindi proprio praticamente tempo reale e vi mostra in ordine tutto quello che è stato comprato quindi c'è un dream un black rose wars minicar game eccetera quindi anche qua vedere cosa hanno comprato gli altri insomma può sicuramente darvi ispirazione mi piace pensare che questo dream sia stato comprato perché qualcuno ha visto la mia recensione minuta visto che è stata pubblicata ieri magari qualcuno è venuto a voglia così la mia mitomania non ha non ha limiti insomma nel pensare che sia merito mio ma lasciatemelo ideale così allora libri game partiamo dai nostri libri game quindi vi dico le classifiche oggi sono davvero un po nuove c'è pochissimo che abbiamo già visto magari c'è qualche nuovo reinserimento però sostanzialmente si parte tutto dal nuovo per esempio posizione numero 10 smart book il drago delle tenebre titolo di cui ho anche parlato con una minuta che è esattamente questo aspettate che mi metto grosso quando ce li ho mi faccio vedere allora che cos'è è un libro game abbastanza cicciottino che prevede l'uso dello smartphone per entrare in realtà aumentata quindi voi avete sempre in tutte le pagine a sinistra diciamo la parte di storia con eventualmente i vari vivi da percorre e nella parte destra ci sono sempre queste immagini immagini che inquadrate con l'app gratuita che che esiste diventano animate e queste sono sempre dei mini game quindi a volte dovete scoprire qualcosa a volte ce la trovare una differenza a volte dovete interagire a volte dovete magari percorre un labirinto altre volte un po flavor e poi soprattutto ci sono i combattimenti quindi anche qua vedete l'avversario che mossa vuole fare voi avete da lanciare dei dadi sostanzialmente nell'app e destinarli per l'attacco e per la difesa ve lo sto un po semplificando e quindi anche i combattimenti sono fatti in maniera interattiva molto intrigante vi dico allora è sicuramente adatto tutti vedete ci sono proprio degli enigmi per esempio da risolvere questo è un vero e proprio enigma visto così ovviamente non potrete mai risolverlo con l'app invece queste campane suonano e non vi voglio dire troppo vi dicono vi dovete un po risolvere in altri casi c'è qualcosa magari di matematico o simile tale diciamo che il target di questo libro possiamo dirlo che intorno ai 8 9 anni mettiamolo così però è interessante anche per i più grandi cioè dipende un po dalla vostra abilità con le escape room o giochi ad enigmi ecco mettiamola così quindi anche per i più grandi sicuramente è sfidante cioè non c'è niente di banale di scontato chiaramente magari uno avvezzo a questo mondo lo legge un po più in maniera spensierata diciamo non sarà così ingaggiante però sicuramente una bella idea è un prodotto fatto bene e poi c'è questa cosa interessante che non è rotto il mio libro vedete che si apre in questo modo che uno dice ah ma si è scollato no c'è proprio scritto qua che è fatto in maniera tale che le pagine sul tavolo siano perfettamente piatte vedete potete appoggiarlo sul tavolo così potete con lo smartphone inquadrare perfettamente il libro senza dover tenere che si ripiega eccetera è ben studiato da questo punto di vista la storia diciamo che dovete andare nei sotterranei affrontare poi alla fine un drago abbastanza lineare abbastanza classica standard quindi non posso dirvi la trama è quanto di più innovativo ci sia però sicuramente il media si mi avete scritto funziona offline o caspita è una domanda difficile non lo non lo so c'è oggettivamente non mi recendo l'ho sempre utilizzato con i dati attivi quindi non saprei risponderti se funziona offline o no al limite facciamo così la reinstallo provo a rimetterlo tolgo i dati e ti do una risposta in qualche modo al limite ci scriviamo book tipo tramite instagram qualcosa ricordamelo per favore e provo a darti una risposta non mi ricordo credo che ci vogliono i dati attivi perché sono tante cose animate non credo che vengono scaricate tutte perché talo consigli vi dicevo secondo me a partire dagli 8 9 anni si può sicuramente usare però secondo me anche più grandi e interessante ecco questa è una scena per esempio del del combattimento che potreste affrontare vedete avete il nemico con le azioni ovviamente avrete poi dei power up delle abilità che potete sbloccare noi voglio dire troppo puoi scrivere a zelmaui perfetto i damanti ben arrivato ciao a tutti questo posizione numero 10 in posizione numero 9 quindi se torno di qua abbiamo l'ultima torcia all'ombra del drago allora questo è il volume 2 dei libri ambientati nel mondo dell'ultima torcia di serpentarium quindi se vado a vedere qua il volume 1 è esattamente adesso ovviamente non lo troverà il numero 3 il marchio dell'abisso e il volume 1 scusate la chiave nera ok quindi avete queste avventure a metà del mondo dell'ultima torcia cos'è il mondo dell'ultima torcia è un fantasy più realistico di quello che può essere un dungeons and dragons quindi sicuramente c'è della magia ci sono dei mostri vedete lì in copertina ad esempio un drago però diciamo che è molto meno presente da questo punto di vista la parte magica la parte di mostri eccetera è tutto molto più crudo e molto più cruento da questo punto di vista anche la mortalità è molto elevata quindi non siamo ai livelli di un old school per intenderci però sappiate che davvero dovete metterci molta attenzione perché l'idea è che se trovate qualcuno che vi lancia in faccia tipo un sasso forte ovviamente siete quasi morti o morti nel senso cioè non è che potete ben resistere a un sasso lanciato in faccia con violenza e il gioco rispecchia questa cosa qua quindi fate attenzione a fare a botte con qualcuno perché se anche solo quella persona ha una sorta di massa da baseball sicuramente non uscite bene da questo punto di vista questa serie di libri game ripercorre un po queste avventure mi piacciono molto questi libri game della serpentarium perché sono un po come ok ok puoi scherzo il maui perché sono con il profilo della moglie ok si stanno invertendo i profili e no mi piacciono molto perché in sostanza potete giocarli ho recentemente giocato entrambi quelli di cine requie ambientate il mondo di cine requie e avere una sorta di avventura già prefatta potete poi giocare al gioco di ruolo collegato a questi libri game avendo già una bella avventura con tutti gli intrighi con tutti i passaggi già prefatta la cosa interessante che avendo i bivi avete anche le possibilità di alternative alla narrazione classica quindi non c'è niente sui binari e avete degli spunti molto interessanti chiaramente dovete integrare le varie statistiche dei vari personaggi eccetera però li trovo siccome molto viene ambientati in quel gioco di ruolo che è il loro il gioco di ruolo quindi sanno scriverlo secondo me sono anche delle belle avventure da giocare da questo punto di vista in posizione 8 invece andiamo verso the zombies o nel libro game che era da un po che ci mancava in classifica a dire il vero eccolo qua questo è un bel ma lo pazzone quindi vedete che bello spessone edito da dracomaca è scritto da il nidio ok se qualcuno segue i ragazzi di al 4 o più e vi posso dire che stiamo parlando di qualcosa come 700 erotti paragrafi siamo sui 730 paragrafi è un libro game che vi fa secondo me molto molto bene calare in un'ambientazione zombie come si deve avete la possibilità di seguire tre personaggi diversi che quindi si muovono in questa città con un'invasione zombie davvero davvero messa male e ognuno di questi personaggi ovviamente delle sue missioni chiamiamolo così che può essere anche tornare a casa vedere se la propria famiglia sta bene ok è una missione banale da un certo punto di vista e devono districarsi nel mondo degli zombie c'è un bel sistema di combattimento in cui più siete vicini meglio è ad esempio se dovete sparare se dovete combattere corpo a corpo insomma avete queste tabelle in cui confrontare quanti sono loro quanto forti sono loro rispetto a quanti siete voi e tirare il dado per vedere come funziona ed è molto ben fatto da proprio l'idea che se siete messi meglio dell'avversario avete molte più chance di farcela se provate qualcosa di molto rischioso è molto più difficile farcela è una narrazione che secondo me rende molto bene l'adrenalina della della vicenda e tanto il nostro capitano nemo si è abbonato per 12 mesi grazie per il rinnovo allora capitano nemo bene ben rimasto a bordo a questo punto direi è una narrazione di ritmo serratissimo ci sono momenti anche abbastanza forti da questo punto di vista scelte da operare che sono particolari dal punto di vista etico anche e funziona bene cioè se vi piacciono i giochi alla zombie side per intenderci queste ambientazioni dal punto di vista dei l'invasione zombie dove c'è molta action ok dove si dedica molto più spazio alla parte di azione che non il gli umani che ci tradiscono eccetera cioè sì bisogna fare attenzione anche agli umani però è molto più su quello allora dei zombie si è sicuramente un ottimo libro credo sia stato edito nel 2021 aspettate sì 2021 e continua come vedete a essere dentro alle classifiche in realtà ok vi ho parlato di questo mi rendo conto che nella classifica c'era l'inizio della fine semplicemente quello è il prequel cioè è uscito dopo ve lo faccio vedere subito ho letto dei zombies ho preso dei zombies ma non importa quello che ho detto vale l'inizio della fine invece è una sorta di prequel a questo librone dove non c'è ancora l'invasione ma dove siete all'interno dell'ospedale in cui scoprirete che sta iniziando l'invasione degli zombie da dove tutto nasce no dove c'è il paziente zero la cosa intrigante di questo inizio della fine è che ci sono degli enigmi quindi non è un libro di enigmi è sempre un libro game però c'è una sorta di indagine che si sviluppa prendendo vari indizi e quindi mettendoli insieme per risolvere questi enigmi che sono messi all'interno del libro è un po più sottile decisamente più sottile rispetto a the zombies il libro completo e vi darà poi il prequel quindi sono usciti prima dei zombies e poi questo ma potete tranquillamente le giri al contrario così vedete come si prepara questa invasione e come viene portata avanti saliamo posizione numero 7 dungeon crawlers serpentani un games allora qua se non c'è serpentani un sta spopolando da un certo punto di vista ed ecco qua il nostro dungeon crawlers allora che cos'è questo sì possiamo chiamarlo libro game sì possiamo chiamarlo gioco di ruolo è una cosa ibrida fra tutto allora in sostanza voi avete un party di eroi fatti dai soliti quattro eroi mettiamo dico i soliti quattro eroi perché avete il barbaro il guaritore il guerriero il chierico il ladro e il mago quindi questo è il vostro party utilizzerete sempre quattro dei personaggi che vengono messi grazie a questa scheda delle statistiche in quattro spazi diciamo avete un quadrato diviso in quattro parti quella è la vostra formazione dopo di che entrerete in un dungeon c'è una parte narrativa quindi per ciascuna delle missioni diciamo delle avventure che potrete giocare è una sorta di campagna avete una parte narrativa ci sono dei bivi veri e propri che dovete prendere che vi daranno magari degli indizi degli equipaggiamenti qualcosa di particolare vi mostro ad esempio che proprio ci sono i bivi con i soliti vai al vai al come in un vero e proprio libro game e a quel punto cominciate a esplorare il dungeon cosa vuol dire esplorare il dungeon vuol dire tirare dei dadi che vi genereranno innanzitutto le stanze del vostro dungeon qua vedete che ci sono le vostre stanze quindi a seconda del tiro di dado generate la forma della stanza tutte le aperture della stanza tirerete un altro dado tac e metterete il tipo di porta da non c'è porta porta normale porte con trappole porte con fiamme eccetera quindi possono esserci cose dopodiché ultimo tiro di dado tirate un dicento e popolate quella stanza quindi avete tutte le tabelle qua che vi dice esattamente all'interno della stanza cosa c'è da mostri da sconfiggere tesori da trovare bivi da esplorare un sacco di robe la cosa interessante che queste queste parti di popolazione della stanza si vanno a comporre in funzione della narrazione che state seguendo perché perché vi dice magari trovate tre mostri di tipo a e quattro mostri di tipo b nell'avventura voi avete in fondo aspettate che sbircio c'è becco la pagina giusta dove ci sono i modi dai ecco qua vedete ad esempio che qua ci sono dei mostri quindi se state giocando la minaccia del corrotto avete il boss avete il mostro di tipo a il mostro di tipo b in alcuni casi c'è il b1 il b2 eccetera quindi la stanza si popolerà con il mostro specifico dell'avventura che state giocando e quindi si comporterà anche in maniera particolare che so il signore dei vampiri potrebbe attirare gli altri avete i ratti che possono magari moltiplicarsi eccetera finita la stanza vi muovete in un corridoio anche in questo caso dovete scoprire cosa c'è nel corridoio stanza eccetera piano piano disegnerete il vostro dungeon c'è la possibilità anche di avere scale per scendere nei livelli inferiore di questo dungeon e dovete raccontare la storia ogni cinque stanze superate solitamente c'è una pietra migliare una milestone in cui vi fermate prendete fiato potete ricaricare le vostre abilità speciali perché ciascuno dei personaggi abilità speciali e proseguire nella narrazione è difficile ve lo dico perché quando avete intorno otto mostri voi siete solo in quattro non riuscite a usare l'arma a distanza perché avete prima l'ingaggio corpo a corpo eccetera davvero dovete dare a fondo magari le vostre abilità e due o tre stanze di quel tipo lì vi metteranno ko però la statistica vuole che se rigiocate un paio di partite tutto quanto è abbastanza mediato e c'è una bella adrenalina insomma davvero impegnativo e davvero interessante come viene generato un dungeon coerente fisicamente su mappa e che viene popolato come se aveste un vero e proprio master che vi stuzzica potete anche decidere che uno gioca il master diciamo che fa tutta la parte di lettura e preparazione l'altro giocherà i personaggi potete giocare da uno a n giocatori c'è l'ideale giocare in quattro così ognuno pilota un personaggio ma potete tranquillamente giocare in due e coordinare per pilotare tutti e quattro i personaggi ho sempre avuto il dubbio che un po mi spoilerò prima quello che succede tipo per le trappole ma in realtà allora è come nel gioco di ruolo nel senso che quando c'è una porta davanti la prima cosa che succede è prova investigare se ci sono trappole cioè il ladro però vedere se riesce a disinnescarle cioè poi è molto difficile che in un gioco di ruolo ci sia una porta e apro la porta vado e si va davanti a testa bassa quindi diciamo che comunque le trappole c'è la buona norma vuole che le comunque superiate e sapere che ci sono certi tipi di trappole magari a cui voi siete immuni che so trappola del fuoco magari avete trovato qualcosa che vi dà immunità al fuoco vi permette di prendere decisioni diverse che non saperle ed è in sostanza un po come se il master vi stesse dicendo fate attenzione alla porta perché c'è un'iscrizione sopra che fa vedere delle lance che vengono giù e quindi da un po quello insomma comunque non sono così tante le trappole cioè la statistica vuole che sostanzialmente ci siano porte normali o aperture semplici possiamo salire saliamo in posizione number six una notte da cana boxer 182 abbonato per 38 mesi un decorso di 34 mesi wow ottimo grazie boxer grazie dell'abbonamento abbiamo in posizione 6 una notte da cana questo diciamo che grande ritorno ma sempre rimasto fra di noi un fumetto game quindi vado un pelo più veloce rispetto al solito che ormai l'abbiamo più che visto fumetto game con i disegni delta dello stefano tartarotti quindi tutto disegnato con lusi la nostra protagonista qui la nostra protagonista cana che stavolta si trova alle prese con un maniero deve trovare insieme a guapo e un loro amico che si è smarrito all'interno di questo maniero e dovranno investigare una vera propria investigazione avete la possibilità di girare proprio per le stanze vedete che ci sono tutte le varie porte interagire con gli ospiti pazzi che ci sono all'interno di questo maniero tutti altri animali ognuno con dei segreti inerrabili piano piano mettete insieme le cose e risolverete questo è per non dirvi troppo il vostro caso quindi comincerete a risolvere il caso che poi si rivelerà un po più intricato di quello che avete ipotizzato ed è molto divertente diciamo non è una investigazione particolarmente difficile diciamo che è più verso il punto e clicca cioè cercare di prendere proprio tutte le varie cose che sono disseminate in giro e metterle insieme quindi non c'è una parte vera e propria deduttiva se non proprio verso la fine ma è molto piacevole disegni molto ben curati e quindi anziché come nel giorno da cana tante micro avventure questa è un'avventura che si svolge dall'inizio alla fine e boxer ne ha approfittato che si è riscattato pure un mese di vip su dungeon dice ecco qua tac con il vip avete un bel po di vantaggi salendo scusate salendo abbiamo gli ossessi sposi quindi libro che ancora colpevolmente non ho non ho letto ma vi ho promesso che ve ne parlerò più approfonditamente non appena lo leggerò che in pratica è una specie di rivisitazione della novella dei promessi sposi e quindi qua abbiamo eventi un po particolari perché la pestilenza diciamo che è un po una cosa a margine di tutti i problemi che circondano i due amanti mettiamola così quindi è una peste un po più fisica meno malattia più araldi della peste che si muovono insomma una cosa un po più grim dark mettiamola così e però non posso darvi più 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 specifica insomma lo devo proprio leggere saliamo in posizione 4 con lupo solitario il volume 27 adesso non so bene perché il volume 27 sia entrato in classifica c'è qualcosa che probabilmente non so ma lupo solitario è forse il libro game per antonomasia dal mio punto di vista quello da tutto o meglio quello dove si è iniziato a parlare di libri game con un personaggio che abbia un proprio spessore che abbia delle avventure che sono concatenate fra di loro potete leggere sicuramente il lupo solitario senza necessariamente seguire l'ordine cronologico delle varie letture facendolo però potrete non solo avere una trama orizzontale che piano piano va avanti che progredisce in cui capite che c'è ci sono delle trame di fondo che vengono comunque portate avanti ma soprattutto avete anche magari dei piccoli bonus che vi possono aiutare nell'avventura qualcosa che viene sbloccato in un'avventura e potrete usare in quella dopo alcuni vantaggi anche solo il perché avete parlato con qualcuno e quindi sapete magari che di quella persona non potete fidarvi ed è lupo solitario lupo solitario oltre a menare le mani anche una piccola dose di magia utilizzabile quindi c'è una spolverata di magico all'interno del mondo di cavalieri kai che sono chiamati così i cavalieri a cui partiene il lupo solitario ed è sicuramente avvincente quindi avete un eroe che ha a tutti gli effetti un eroe nel senso bravo nel combattimento che è capace di districarsi anche in situazioni difficili temerario che cerca di affrontare a viso duro le avversità insomma lupo solitario ripeto credo che sia proprio un po il libro game per antonomasia mettiamolo così quando si pensano si pensa ai libri game credo che si passi si pensi a lupo solitario vitvich eccoci ben arrivato o ben arrivata perdonami posizione 3 stagoneria rusticana duellante ora non capisco bene perché ci sia duellante mentre l'altra volta c'era sia duellante che scaramante ma vi parlo di entrambe le cose ovvero sia questi sono due libri game sempre scritte da andrea tupac mollica uno è duellante l'altro è scaramante come potete vedere di che cosa parlano questi libri game allora c'è una un maniero diciamo che ha rapito tua sorella il despota ha rapito tua sorella e quindi devi infilarti all'interno di questo maniero per riuscire a picchiare il despota e portarti via la sorella trama abbastanza facile ma come puoi farlo puoi farlo o con cappa e spada quindi andare giù di botte oppure con quelle che sono diciamo delle magie diciamo degli artifici da questo punto di vista che potrebbero essere assimilati alla magia cosa interessante che l'avventura è la stessa avventura nei due volumi ma vista dai due punti di vista diversi quindi da un punto di vista voi potrete infilarvi da una parte dall'altro potete che so combattere le guardie alla porta e poi potete decidere di entrare eccetera da una parte ovviamente se avete le competenze alchemiche se siete invece un guerriero magari potrete scardinare una porta che è troppo pesante per lo scaramante quindi entrare in una sala d'armi ma potete leggerli anche in contemporanea la cosa figa è che vi prendete un amico vi leggete i capitoli uguali quindi sono proprio scritti uguali alcuni capitoli ma se poi uno decide di prendere una strada rispetto ad un'altra lui andrà avanti a leggere la sua l'altro leggerà e succedono cose intersecate quindi se in una stanza c'è il loot completo quindi uno arriva in una stanza e so da fuoco completamente alla stanza l'altro giocatore andrà ad una pagina in cui entra in questa nuova stanza e la trova completamente bruciata da chi? dall'altro giocatore quindi sono comunque coerenti le due cose in alcuni casi uno deve aiutare l'altro quindi sblocco una porta in modo che tu possa poi passarci andare magari nelle segrete i combattimenti potete anche rimanere insieme non è obbligatorio separarsi se siete insieme i combattimenti vanno giocati insieme quindi avete sicuramente dei vantaggi quindi è un modo molto molto interessante un bel esperimento non ho idea di quanto ci abbia potuto mettere l'autore per scrivere una cosa di questo tipo ma duellante e scaramante sono sicuramente due libri da da leggere insieme altrimenti vedete delle cose e avrete sicuramente la netta sensazione che qualcosa dell'esplorazione vi sfuggirà perché non c'è modo di farlo se non attraverso l'altro libro saliamo in posizione numero 2 in cui c'è un altro smartbook quindi come quello che vi ho fatto vedere in posizione 10 se non ricordo male esatto quindi un libro game con la realtà aumentata e quindi ho visto che è uscito questo che si chiama la spada delle meraviglie direi che il sistema sembra lo stesso perché vedo riportate qua le iconcine delle applicazioni vedo sempre che c'è qua il nostro smartphone da utilizzare editore psup ok lo sviluppatore diciamo è psup quindi credo che sia un'altra avventura sempre con questa idea della realtà aumentata e vediamo se c'è qualcosa di scritto quindi vesti i panni di un coraggiocio spadaccino pronto a intraprendere una missione epica insieme alla tua inseparabile compagna la spada magica rilgist ma un imprevisto ti costringe tra l'ora un'arma sostitutiva la leggendaria spada delle meraviglie ok quindi la premessa abbastanza simile vi dico come nell'altro libro non è che c'era chissà quale trama intricata anche qua sembra abbastanza lineare succedono cose succedono cose perché c'è un prince xero ok prince xero magari che si è abbonato per 13 mesi con nel corso di tre ciao a te prince xero quindi 13 mesi di fila capitano nemo che chiede i punti e daniele è arrivato quindi ehi buon salve a te ciao daniele bene arrivato chiudiamo in posizione 1 con il nuovo lavoro di serpentarium che è dragon crawlers quindi vi ho parlato approfonditamente di dungeon crawlers per farvi capire com'è direi che dragon crawlers è il nuovo upgrade di questa edizione chiamo upgrade perché loro hanno fatto anche zombie crawlers che l'idea è sostanzialmente la stessa ma per esempio lì avevano deciso che il personaggio anziché costruirli come si fa con un personaggio gdr quindi con le varie statistiche da scegliere da assegnare eccetera le abilità c'era una parte di narrazione e a seconda delle scelte che prendevi che le scelte che operavi mettiamola così il tuo personaggio si componeva in quel modo quindi se decidevi di metterti a difesa di un'altra persona allora il tuo personaggio guadagnava che so la capacità di curare le ferite ok di proteggere l'altro se ti buttavi a testa bassa guadagnava magari l'abilità della corsa ok quindi ogni personaggio raccontava una piccola una piccola scena c'erano dei piccoli flash che lo caratterizzavano al meglio così potete giocarli al meglio non so di preciso qual è l'upgrade che c'è in dragon scusate dragon crawlers mamma dragon crawlers difficilissimo da dire mannaggia però mi aspetto che ci sia appunto anche qua una qualche trovata che lo renda comunque nuovo rispetto a quello il pretesto qua è la montagna del drago è impervia è così alta da sfidargli del cielo al suo interno i nani hanno costruito sale strade e ponti gettati sull'abisso intere città ricchi di magia di segreti di giacimenti d'oro e tesori incantati quando il drago riversò fuoco e veleno dalla montagna i nani che combatterono furono uccisi e i pochi sopravvissuti scapparono adesso è venuto il tempo di riconquistare ciò che fu loro strappato quindi si va e si fa il mazzo tanto al nostro amico drago esatto magari qualche drago ok finito il primo giro all'interno del mondo libri game direi che sicuramente dobbiamo entrare nel nostro carrello io qualcosina vi farei vedere del nostro carrello cosa ho messo allora partiamo da qua concept kids animali uno dei giochi che con il mio bimbo di cinque anni giochiamo più spesso lo gioca già da qualche tempo quindi vi direi che se il vostro bimbo è figlio di giocatori anche a quattro anni se l'avete già fatto giocare può sicuramente farlo molto molto carina l'idea che sia il bimbo a dover dargli indizi quindi ha esattamente questo tabellone che ha gli spazi per indicare dove vive abitualmente l'animale se l'animale notturno diurno se è buono o cattivo questo buono o cattivo ovviamente cioè immaginate che sia il bimbo a darvi le informazioni quindi per lui magari uno squalo lo intende cattivo e magari un coniglietto buono poi vede il disegno della formica un po grande un po così allora ha cattivo quindi buono cattivo quali sono i suoi colori se è zebrato o maculato tutte le caratteristiche che può avere quindi se è piccolo medio grande se è forzuto se è debole se ha il pelo se ha le piume se ha la corazza insomma tantissime caratteristiche quante zampe ha se ha gli zoccoli quanto veloce è se sa saltare volare arrampicarsi scavare nuotare quindi varie cose e se è erbivoro o carnivoro vi ripeto la cosa bella è che il bimbo che dà gli indizi quindi in alcuni casi potrebbe non conoscere l'animale se proprio non sa che animale è vabbè possiamo lasciare stare anche perché non può dirvi se avete indovinato o meno la parte però carina è quando in qualche modo conosce che animale è ma non ne ha molte informazioni ad esempio il bradipo il mio pende sugli alberi gli ho chiesto come si muove lui ha detto boh striscia mi ha metto uno striscia invece che un cammina beh ci può stare mi ha messo molto lento poi però mi ha detto che era cattivo e che quindi mangia la carne perché ha visto le unghione quindi per lui erano degli artigli perché in effetti non ha mai visto un documentario sui bradipi che lo sa raccontare mi ha messo poi come alberi questi tipi di albero possono essere giusti sbagliati insomma vanno un po così quindi dovete interpretarli ed è molto carino mi piace questo concept kids ti ho messo soldati ho visto che è rientrato in produzione ed è secondo me è un gioco da provare è un collaborativo che in cui combattete la prima guerra mondiale senza sparare un colpo ok è un qualcosa di davvero davvero particolare in cui dovete curare i traumi che man mano la guerra vi darà dovete giocare carte cercare di non fare dei tris e potete in qualsiasi momento ritirarvi dalla vostra missione cioè piuttosto che andare avanti e rischiare che uno dei vostri commilitoni sia traumatizzato da quel momento perché ha magari delle fobie già qualcosa in corso potete decidere di ritirarvi dalla missione chiaramente ritirarsi della missione vi permette di essere più salvi ma di far correre velocemente questo pericolo di non portare a casa la pace invece se riuscite a stare il più possibile lì prendendosi cura gli uni degli altri piano piano arriverete alla carta della pace ogni volta che si fallisce ogni volta che succede qualcosa uno di voi prenderà un trauma quelli che si chiamano traumi e sono sempre un qualcosa che nel gioco è per esempio non posso giocare le carte di notte ok oppure se ci sono più di tre carte già esposte devo obbligatoriamente ritirarmi ma prendersi cura di questi traumi che ci sono si possono anche in qualche modo curare è qualcosa che lega tantissimo al tavolo sapere che ok lui non può avere questo tu non puoi avere questo però allora io per forza devo giocare questa perché io sono testardo quindi sono obbligato a giocare vi fa prendere un sacco di decisioni interessanti e secondo me rende bene l'idea di una guerra combattuta da gente che non sapeva combattere c'è la prima guerra mondiale davvero una guerra di poveretti mandati lì a premere dei grilletti stare nelle trincee e provare a portare a casa la pelle non c'era molto altro e secondo me è un bellissimo gioco ad aggiungersi rispetto a questa cosa c'è che le immagini sono di Tignu che è uno dei disegnatori che è morto nell'attentato a Charlie Hebdo quindi si aggiunge anche un pezzo un po' particolare sul fatto che il disegnatore appunto è uno degli ultimi lavori che ha portato a termine mamma come ho appresentito l'ambiente però tiriamo su subito con Hive Pocket potevo mettere anche Hive normali ma il Pocket mi piace sempre perché ha questo sacchettino con cui potervelo portare in giro credo che tutti abbiate giocato ad Hive potrebbe essere che qualcuno di voi non l'abbia ancora giocato e se ancora non avete giocato ad Hive è il momento di giocare almeno una partita ad Hive è un gioco che secondo me ha tutto è uno dei giochi meglio sviluppati secondo me di sempre gli anni stesso ogni anno l'autore ci ha messo quasi dieci anni di sviluppo per portarlo a questa perfezione secondo me è una sorta di giocare a scacchi senza avere una scacchiera potete giocare in qualsiasi superficie dovete circondare l'ape regina dell'avversario un giocatore avrà gli insetti neri un giocatore gli insetti bianchi lo scopo è circondare la regina ognuno degli insetti si muove in maniera diversa dall'altro rispettando le sue caratteristiche della realtà e ci sono mosse contro mosse attacchi contro attacchi addirittura io avevo letto il libro quando mi sono proprio scimmiato tanto del campione mondiale di Hive che vi parla anche solo di come si apre cioè a seconda se l'apertura è una I è una J è una S è una C cambia molto l'approccio della partita quali sono quindi gli insetti da giocare prima a seconda dell'apertura che viene fatta quali sono le probabilità di vittoria di sconfitta di pareggio a seconda di questa apertura e come è risposto l'avversario davvero c'è un mondo dietro di strategia dentro a questo dive ed è fighissimo ripeto senza sembrare così altezzoso se non avete giocato a dive giocate almeno una partita a dive e poi vi ho messo the quite ear che è una nuova edizione è un gioco di un bel po' di anni fa credo 2012 2011 non so che qua in chat c'è sempre qualcuno che poi mi va a fare il fact checking così vi chiedo questa cosa gioco molto vecchio ormai di every elder che vi fa disegnare una mappa quindi dovete gestire una comunità voi non avete un vero e proprio personaggio ma gestite una sorta di gruppo di persone immaginate di rappresentare una decina di persone che devono prendere decisioni per la propria comunità riguardo ad alcune crisi precisamente 52 crisi che attraverseranno l'anno queste crisi sono di tipo arriva un anziano quindi il più forte tra voi muore cosa ha causato la sua morte oppure il più debole tra voi muore di chi è la colpa ci sono cose negative cose positive finché non arrivano i bianchi pastori ok pastori glaciali questa cosa fa terminare la vostra partita decidete voi chi sono quale è il motivo per cui la vostra popolazione diciamo la vostra comunità cesserà di essere tale che non vuol dire necessariamente venga spazzata via magari decide solo di spostarsi perché non è più quello il tutto è letto dal fatto che ogni decisione che prendete ogni cosa che decidete di realizzare progetti eccetera disegnarlo su una mappa quindi a fine della partita avrete sul tavolo il vostro disegno di una mappa vi dico solo che con delle colleghe abbiamo progettato a scuola l'intero percorso di competenze di cittadinanza utilizzando dei quite here quindi i ragazzi all'inizio partivano facendo un po gli scemi ma piano piano sono entrati nel mood hanno iniziato disegnare la loro colonia su un pianeta sconosciuto parla toccando tutti i vari temi caldi del percorso di cittadinanza quindi si è parlato di come si promulga la legge che pena di morte detenzione carcere rieducativo carcere punitivo perché semplicemente in ogni lezione venivano studiate delle crisi ad hoc in modo tale che i ragazzi potessero discutere di questa tematica anche in maniera non così esplicita cioè magari non si rendevano conto di parlare di quella cosa e poi agganciare la parte di lezione che spiegava un po qual è la situazione ad esempio della costituzione italiana qual è la posizione che abbiamo dal punto di vista legislativo nella nostra democrazia faccio un attimo di pausa bevo che sono arrivato un po alla sete ok e direi che ci spostiamo nel mondo del gioco di ruolo allora giochi di ruolo posizione 10 ritorna è tornato se n'era andato ma è tornato fra noi il nostro critical ok eccolo qua allora che sostanzialmente non saprei ben dire se è un gioco di ruolo un gioco da tavolo sostanzialmente però è un qualcosa che vi aiuta a introdurre gli altri giocatori al mondo del gioco di ruolo ci sono tantissimi materiali tantissimi props a partire dallo schermo del master ma ogni giocatore ha la sua carta che rappresenta la scheda del personaggio gli equipaggiamenti le sue caratteristiche diciamo il carattere e si tira un dado c'è anche lo spazio per segnarsi il suo nome avete tante carte che mostrano lo scenario che state raccontando i nemici che dovete affrontare quindi tutti possono avere fisicamente un riscontro ma la cosa veramente intrigante è che il master ha queste avventure una vera e propria campagna in cui è scritto tutto quanto quindi ci sono le parti da leggere cioè ma potete imparare proprio a fare un po il master cioè è quasi più che imparare a giocare quasi più imparare a masterare perché ci si può anche decidere di passare a turno c'è ogni missione master a uno diverso avete le parti da leggere vi dice le parti con le alternative tipo se i giocatori fanno questo fanno questo se falliscono il tiro se riescono nel tiro cosa devi leggere cosa devi fare suggerimenti su come fare per farli interpretare meglio cosa raccontare se devi prendere una carta specifica tipo metti in gioco la carta x metti su questo così dichiara la difficoltà di questo tipo usa gli scheletri per fare quest'altra cosa fino all'epilogo della ventura quindi per filo e per segno se seguite questo vi dice anche qual è il riferimento alle regole molto semplici da utilizzare e di guida passo passo ultima roba che potrebbe farvi dire a bomba è che ognuna di queste avventure dura mezz'ora quindi studiato per durare 30 minuti appunto anche per non venire propri giocatori e quindi potete tranquillamente in una sera fare anche un paio di avventure o decidere che so ogni giorno in pausa pranzo farvi una di queste avventure ed andare avanti sicuramente funziona molto bene ed è fatta bene l'avventura chiaramente approfitto per segnalare questa cosa se siete giocatori di ruolo vi troverete un po sui binari cioè non c'è spazio per ruolare davvero per esplorare per fare delle cose per come è strutturata l'avventura per come deve guidare il master tenendolo per mano in pratica non dico che vi dice no non si può fare ma è tutto fatto in maniera tale che i giocatori seguano quella dritta lì insomma se vanno da altre parti il master o esperto e si deve da quel momento deve inventarsi tutto il resto o se volete utilizzare quello che c'è nell'avventura chiaramente il master deve dire dovreste cercare di stare qua quindi attenzione che il railroading in questo caso c'è e come stanno passando degli aerei sopra di me non so se li sentite in posizione 9 troviamo blade runner lo starter set allora direi che cosa succede che mauri 92 si abbona per 24 mesi bravissimo mauri bravissimo allora starter set di blade runner dentro c'è intanto una marea di roba per una marea di roba intendo che ci sono proprio un sacco anche di cose da consegnare ai giocatori finte riviste la mappa della città identikit schede planimetrie da consegnare bravo mauri bravo 24 mesi un'ottima scelta di abbonamento ai tanti oggettini a dare ai giocatori e vi trovate in un gioco di ruolo con l'ambientazione appunto di blade runner film direi più che famoso in cui dovete indagare all'interno dello starter set avete un'avventura che vi chiederà di indagare nel mondo appunto dei replicanti comincerà a svelarvi delle cose e adesso leggo cosa mi scrivete in chat e vi chiederà appunto di portare avanti la vostra missione seguendo questa indagine che potete svolgere praticamente come vi pare e piace potete davvero muovervi liberamente per la città ovviamente questa cosa vi costerà tempo quindi costando tempo succederanno delle cose perché magari se qualcuno sta predisponendo che sono un ordigno da far esplodere da qualche parte perdendo tempo questo ordigno potrebbe esplodere cambieranno le cose e piano piano vi fa prendere confidenza con tutte le regole per gli amici che l'hanno giocato mi segnalano che oggettivamente è molto meglio giocare a questo starter set prima del gioco di ruolo vero e proprio cioè il il gioco di ruolo di blade runner è molto corposo dal punto di vista delle regole ci sono delle cose che non rimangono chiare a sufficienza e quindi invece con lo starter set riuscite sicuramente a giocarlo meglio cosa mi dice ciao teo per caso tu hai giocato a mandalorian ti rispondo sì caro niki della contea ho giocato a mandalorian mi è piaciuto moltissimo ho pubblicato un paio di settimane fa una mia minuta quindi se ti capita prova a darci un occhio lo trovo approfittiamo vediamo mandalorian eccolo qua no non è questo eccolo qua questo immagino che parli di the mandalorian adventures quindi avete gli scenari che sono messi proprio su un librone ok in cui muovere le vostre pedine ogni personaggio ha un suo mazzo dedicato specifico e ci sono solo quattro azioni da utilizzare ogni volta che giocate una carta la mettete sotto una di queste azioni e vi dice la forza con cui performete l'azione a fine potete muovere vi sparare sbirciare chi ci ha coperto sostanzialmente quando finite l'azione si controlla se avete innescato una crisi superato una certa soglia di cinque o sei innescate crisi che sono degli eventi che si potranno attivare che fanno succedere cose entrano nuovi cattivi si spostano insomma fanno evolvere il gioco è un po l'intelligenza artificiale del gioco i personaggi tutto quello che fate i personaggi mazzi le carte le missioni si evolvono c'è un mazzettone di roba che piano piano viene inserito vi spiegano sempre più regole quindi iniziate con la parte base ma poi gli scenari diventano via via più complessi da questo punto di vista che avete più regole avrete delle carte che fanno cose sempre più fighe e poi quando avete giocato tutti gli scenari con i personaggi che vi vengono detti con le regole addizionali con le complessità eccetera avete poi delle mega bustone che rendono una cosa ancora più bumba non vi posso dire troppo posso dirvi solo tipo a un certo punto trovate la t e t cioè è questa cosa può cambiare decisamente il fatto che su uno scenario ci sia questo e è molto molto figo sicuramente indirizzato per chi non è veramente giocatore ma noi che siamo giocatori l'abbiamo molto apprezzato abbiamo giocato diverse missioni da questo punto di vista su mandalorian quanto ci vedi di gloom haven quello piccolo non quello dei bottoni c'è quello c'è la scatola gloom haven proprio gloom haven ti direi poco cioè allora la difficoltà non è elevata come in gloom haven non c'è tutta questa pianificazione da fare gloom haven è punitivo se sbaglia anche solo l'ordine delle attivazioni dei giocatori delle delle loro abilità rischi di compromettere completamente la partita qua non siamo a quei livelli di punitività la pianificazione è su quattro azioni quindi proprio quattro al limite avete dei bonus scritti qua sopra ma quattro azioni non ce ne sono di più da prendere e man mano ti guida passo passo diventare sempre più complessi invece gloom haven sostanzialmente riconoscere tutte le regole all'inizio e applicarle senza commettere errori qua piano piano te le insegna diventi sempre bravo personaggi sono tutti diversi fra loro e cioè no perché anche gloom haven devi scegliere l'iniziativa la carta girata di qua e di là qua no 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 è molto più light è più verso allora adesso faccio un paragone che non è proprio però immaginate più verso fiabe di stoffa come tipologia di gioco ci sono solo quattro avventure vero è rigiocabile come dicevo sì c'è ci sono quattro scenari ma gli scenari te li fa rigiocare con regole sempre più complesse con sempre più casini e poi man mano avete le bustone che rendono ancora diverso quello stesso scenario quindi hai quattro mappe mettiamola così però immagina che vi dico una piccola cosa ad esempio immagina che su questa mappa tu la giochi così e poi la devi giocare cercando di non far prendere il bambino ok non è su questa mappa su un'altra mappa non vi dico quale non devi far prendere il bambino quindi cosa succede che ci sono dei nemici che si muoveranno per catturarlo se lui si spaventa scappa via quindi andarlo a riprendere dovete portarlo avanti alcuni cercheranno di colpirlo quindi dovete mettervi in mezzo e quindi lo stesso scenario che magari qua siete andati avanti come dei serial killer arrivare fino in fondo dovete giocarlo in maniera molto diversa con uno stress incredibile perché lui se ne va viene vicino va nei pericoli voi dovete salvarlo eccetera e già solo quello cambia completamente l'impronta dello scenario nonostante sia quello ok a jose of the lion allora sì e comunque anche jose che è più giocabile è comunque secondo me è un po più complesso mettiamola così quindi sì con jose hai un po più di semplicità diciamo non è così difficile vincere segui un po più l'avventura però qua è un pochino più più semplice ok torniamo a noi vi dicevo la posizione 9 e andiamo posizione 8 l'unico anello questa è una un libro addizionale sul gioco di ruolo l'unico anello che vi dà i racconti delle terre solitarie e precisamente vi dice che adesso si erano profondamente inoltrati nelle terre solitarie dove non c'erano più né abitanti né locande e le strade andavano costantemente peggiorando non molto lontano davanti a loro si ergevano sempre più alte tetre colline scurite dagli alberi su alcune di esse si levavano vecchi castelli dall'aspetto sinistro come se fossero stati costruiti da gente malvagia quindi ci sono nuove avventure nuovi scenari nuove possibilità per intraprendere sempre più avventure nel mondo del l'unico anello unico anello ovviamente gioco di ruolo ispirato al mondo ideato da tolkien quindi il fantasy classico il freddo diciamo l'inventore del fantasy da questo punto di vista in cui potrete impersonare le razze che avete imparato a conoscere con la trilogia del signore di anelli o con lo hobbit insomma dipende che da che libri prendete riferimento o da che film sostanzialmente e compi dovrete compiere delle missioni epiche da questo punto di vista perché dico missioni epiche questo punto di vista perché oltre ai tipici combattimenti avete anche tutta la parte di diplomazia di negoziazione diciamo che la parte di interazione con le altre persone in maniera non violenta è sicuramente una parte integrante nei racconti di tolkien quindi avete dei personaggi che hanno delle loro peculiarità il sistema di gioco è abbastanza snello nonostante la scheda sia bella corposa da questo punto di vista ma vi chiederà di ruolare molto bene anche i rapporti fra i vari personaggi quindi serve conoscere l'ambientazione di tolkien secondo me sì perché va giocato non tanto su delle competenze diciamo vi serve giocare sapendo di che cosa avete bisogno sapendo ad esempio che ci sono personalità eminenti in questo mondo come gandalf per esempio o bilbo che hanno sicuramente un peso diverso dal punto di vista narrativo personaggi con cui non potrete confrontarvi non potete andare in uno a uno ad esempio dovete sicuramente trovare degli alleati magari preparare degli eserciti da questo punto di vista e quindi secondo me serve conoscere ed essere un po appassionati del mondo della terra di mezzo ecco mettiamolo così mi hanno detto che è veramente un ottimo sistema sì io ho giocato una one shot mi hanno fatto giocare ben giocato in realtà no a b shot erano due serate è molto bello perché in realtà è anche abbastanza semplice tu hai dei tiri di competenza e devi tirare un dado da 12 ok quindi per superare la prova c'è un livello che devi superare ma che è definito dal tuo personaggio cioè non lo sceglie il master se tu hai ad esempio competenza 6 il tuo livello è 14 ok si toglie fa 20 meno la tua competenza quindi se hai competenza 8 il tuo livello sarà 12 tiri un dado da 12 più tanti dadi da 6 quante sono la tua figosità in quell'ambito che so fisico mentale eccetera e fai la somma devi superare quella soglia che è determinata proprio dal tuo personaggio quindi sempre quella chiaramente ci sono delle facce particolari dei dadi di fallimento molto critico di successo critico ci sono delle faccettine del 6 dei dadi da 6 c'è sul simbolo elfico che ti dà dei dei successi in più e quindi è molto snello da questo punto di vista ci sono dei bei risvolti diciamo c'è una bella imprendibilità perché puoi avere successo ma farà accadere comunque cose brutte secondo me è un bel sistema di gioco la scheda è abbastanza corposa bisogna prendere un po' confidenza nel frattempo il raffa cpu si è abbonato per 14 mesi wow oggi tantissimi abbonamenti grazie mille ragazzi grazie mille davvero mi fa molto piacere posizione 7 old school essential sono antologie di avventure volume 1 allora forse e qua ne approfitto per farvi vedere old school essential in posizione numero 6 no volume 2 allora che cosa sono gli old school essential allora è un sistema di gioco che anziché utilizzare il supera un certo valore di soglia adesso parlo innanzitutto della meccanica vi chiede di stare sotto a un certo valore di soglia si chiama attacco ok questo sistema di che tutto sommato può essere facilmente convertibile cioè se vi viene comodo andare sopra si può giocare sopra e vedi lo messo a vedere dice tacco perfetto quindi ma è convertibile in un attimo cioè basta fare il complementare ma chi se ne frega da questo punto di vista quello che succede però è che ci troviamo di nuovo nel nelle prime edizioni tangents and dragons dei giochi di ruolo dove la letalità era decisamente alta dove ogni mostro se affrontato a viso aperto vi portava sicuramente alla sconfitta dove il total party kill era messo male qui negli old school essential quindi dovete sempre trovare il modo di combattere senza combattere veramente trovando degli escamotage trovando il modo di fargli cadere addosso un'intera casa che so al nemico oppure evitando proprio il combattimento prendendo un'altra strada così come ogni roba che è presente potrebbe esservi letale zelmaui sover non gioca a queste cose questo tacco con tanto entusiasmo e poi così di colpo non ci credo tantissimo quindi cosa succede che ogni porta voi dovete verificarla o in una bellissima live che ha tenuto nicola de gobbis proprio il patron di need games diceva che il vostro migliore amico nel old school è la pertica da 3 metri perché ogni porta voi dovete provare a spingerla prima con il bastone ogni movimento dovete cominciare prima a batterlo con la vostra pertica ogni nemico dovete tenerlo la giusta distanza con la pertica perché ogni roba che si avvicina potrebbe esservi letale una porta che si apre e dietro c'è una trappola di fulmine che vi fa 12 danni da 6 di danno vi carbonizza istantemente e meritate di essere carbonizzati perché non si apre una porta nell'old school bisogna prima di tutto farla aprire a qualcos'altro che sia una pertica che sia un png insomma perché tutto è lì pronto a farvi del male quindi anche l'azza non capisco anche l'azza e quindi fate attenzione detto questo però è un sistema di gioco che è comunque molto appassionante c'è questa cosa dell'adrenalina al massimo che in qualche modo rende anche reale la faccenda cioè se guardate solo l'immagine della copertina ci sono due tizi che possono essere barati finché vogliono ma contro un bestio molto più grosso quindi è facile che se andate lì e questo vi colpisce col martello vi fa del male è colpa vostra che siete andati lì vicini a dargli fastidio quindi ci sono delle avventure precisamente divise per livello qua avete il rifugio del... faccio una citazione l'orafo la maledizione del dio larva per secondo terzo livello i bagnanti terzo livello e la cometa dimenticata dal tempo nono livello e più dove fuggite da una cometa condannata che sfreccia nel cielo azza arma medievale a due mani che integra un'asta e una mazza e un'ascia ah ok ho capito ho capito sì sì quindi ok quella lunga ho capito qual è quel fatto non sapevo che si chiamasse lazza grazie grazie della dell'informazione a livello 3 puoi portare gli adepti che sappiamo a cosa ci servono gli adepti ma parlando del old school essential NOC volume 2 vi faccio vedere il volume 1 che acquistai ormai un 2-3 anni fa che cos'è questo? è una cozzaglia di robe cioè e per robe intendo che anche graficamente sono tutte una diversa dall'altra cioè vedete come le pagine sono strane ci sono immagini ci sono mini dungeon ci sono tabelle tabelle solo con le varie cose idee di armi idee di trappole idee di dungeon incipite di avventure personaggi non giocanti c'è tipo una tabella dei 100 oggetti magici avete un vero e proprio dungeon raccontato avete boh un dungeon solo disegnato ok messi in questo modo quindi avete un po' di cose che potete utilizzare che so qua c'è l'arma animata ok arma animata che è una specie di razza classe ad hoc potete giocare questa cosa qui dell'arma animata quindi cose pazze con grafiche pazze perché sono rilegate tutto nella zin che potete utilizzare all'interno delle vostre avventure o utilizzare quindi consigli per il master come pratichirvi con i goblin insomma mostri come l'idra eccetera c'è di tutto la grafica è come vi dicevo quanto di meno organico si possa pensare ci sono delle pagine che vi faranno venire il mal di testa da un certo punto di vista ma c'è di tutto contate che c'è roba per esempio anche nella quarta di copertina cioè se io tolgo la quarta di copertina c'è un dungeon con tanto di tutte le spiegazioni del dungeon e qua c'è un demone tutto raccontato che potete inserire nelle vostre avventure quindi il volume 2 vi aspetto una roba molto molto simile con cose che potete utilizzare all'interno delle vostre avventure ah ecco qua per esempio c'è una trappola ecco guardate in seconda di copertina c'è una trappola fatta così con la palla che rotola che potete cadere sugli spuntoni è matto è matto è una roba matta questa knock volume 1 e 2 cose a caso sì però sono quelle robe a caso che boh ah nella mia avventura mi piacerebbe inserire una trappola trac la trovi lì ah adesso i ragazzi sono entrati in un dungeon tac sfrutta quel dungeon già pronto ah guarda ho letto di questo mostro qua lo inserisco nella mia avventura così robe di ispirazione che qualcun altro ha pensato che ha usato nelle sue avventure e che le ha messe insieme loro hanno raccolto tutte queste cose in un volume unico posizione 5 abbiamo Green Hawks Green Hawks ormai abbiamo stra mega ultra parlato 100 milioni di volte quindi il gioco di ruolo dei vecchi il gioco ormai lo si chiama così cioè dove si gioca con un mazzo di briscola voi siete degli anziani che una volta erano degli eroi quindi eravate un vecchio super soldato ok oppure eravate una volta uno stregone potentissimo che ormai siete anziani e siete finiti qua nella cittadina di riposo perché non è una casa di riposo ma è come se fosse un intero quartiere chiamato Green Hawks in cui vi godete la vostra vecchiaia e intorno a voi capitano delle cose terrificanti come risveglio di grandi antichi gente che sta pensando di far finire il mondo eruzioni di vulcani sotto proprio la cosa e diciamo dovete cercare di fronteggiare il tutto la faccenda è resa molto divertente perché avete il sistema della sfuriata della piazzata cioè cominciate ad accumulare stress e poi c'è un punto date fuori di testa fate proprio la scenata ok davanti a tutti avete bisogno di fare il riposino mangiarvi la vostra minestrina e quindi ovviamente va a vira un po' verso il demenziale quando dice bellissimo aspetto la super tombola io ho ascoltato già il podcast dei fanball perché è uscito Green Hawks edizione super tombola in cui anziché giocare con il mazzo di carte da briscola per le estrazioni per i risultati delle vostre azioni dovete tombolare quindi c'è il master che estrae i numeri della tombola ognuno di voi ha numeri preferiti quindi numeri preferiti che se escono ovviamente avete dei vantaggi guadagnate frustrazione se tipo sbagliate di 1 il numero avete il 53 ed esce tipo il 54 guadagnate frustrazione ma attenzione può guadagnare frustrazione anche il master tipo alla prima estrazione uno dice Ambo il solito giochetto divertente che dite Ambo il master guadagna frustrazione con la frustrazione può farvi del male quindi può vendicarsi e spendere frustrazione per farvi del male sistema di gioco da questo così utilizzando i numeri della tombola man mano che escono ci sono momenti in cui siete più skillati quindi si estraggono tre numeri scegliete il numero che preferite e si regge su questa cosa qua Teo facciamo una live prima di Natale e sarebbe da organizzare questa cosa fare una live di super tombola potremmo convincere i giullari a fare una live di Green Ox edizione super tombola dobbiamo chiedere il benestare dei nostri fanball di fanball però secondo me loro potrebbero starci o farci masterare direttamente da loro perché a me nel loro podcast piacciono molto di come riescono a giocare insieme ho ascoltato anche bene tipo mi è piaciuto molto il loro Last Resort come avventura vabbè ve lo consiglio però super tombola va posizione 4 Be Like a Crow ah ma che asino c'era The Quiet Year anche in posizione 3 quindi vabbè ve l'ho messo dentro ve l'ho già parlato prima ah 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 avevo cancellato dal cervello questa cosa qua Don Ciccio Mafioso Parrucchiere ti aspetta allora in posizione 4 Be Like a Crow è un gioco di ruolo in solitaria quindi ci troviamo di fronte a un journaling game in cui sarete attenzione un corvo quindi veramente sarete un corvo potete essere una delle 4 razze no 5 scusate urbana cyber no non è vero il corvo potete essere l'avevo visto che c'era scritto qua eccolo qua corvo imperiale una cornacca una taccola una gazza oppure un corvo nero e dovete muoverevi in ambientazione fra urbana cyber fantasy gotica steampunk e torre di londra e lo seguirete da quando è pulcino si dice pulcino quando il corvo è pulcino non lo so comunque lo dovete seguire da quando è pulcino fino a quando diventa adulto e seguirlo in tutte le sue cose quindi superare la difficoltà dell'imparare a volare del procacciarsi il cibo dell'accoppiamento insomma e quindi piano piano dovete raccontare tenere il vostro diario di tutto quello che succede al vostro corpo farete incontri ci sono tantissime possibilità e piano piano narrerete la vostra vicenda fino al termine della vostra vita quindi è un gioco molto particolare le ambientazioni sembrano molto convincenti comunque le cose che succedono ci sono degli eventi che succedono in maniera standard mentre ci sono incontri ed eventi chiaramente legate all'ambientazione che state giocando quindi decidete molto bene come fare una volta che impostate la vostra avventura potete cominciare a raccontare e giocare la vostra vita da corvi da veri e propri corvi posizione 3 the quite ear ve ne ho parlato poc'anzi aggiungo che boh la forma a latina mi inquieta cioè non so se mi piace cioè in realtà mi piacerebbe prendere questa edizione perché è l'edizione italiana io ho presi appunto una decina d'anni fa l'edizione inglese parola l'edizione italiana in latina boh non lo so c'è qualcuno ce l'ha me la fa vedere dal fisico sono molto dubbioso su questo il formato non capisco non capisco il formato comunque vabbè saliamo in posizione 2 da Justin Dregos il player's handbook ormai la gente ha iniziato a giocare D&D 5.5 ribattezzato questo D&D 5.5 e c'è l'handbook tra l'altro adesso dovrebbe essere partito il pre-order anche del quaderno del dungeon master da questo punto di vista e sicuramente è un upgrade che tiene conto di tutte le varie migliorie che sono state proposte richieste dalla community D&D giocando alla quinta edizione quindi è un refactoring se vogliamo parlare come con gergo informatico quindi non vuol dire che hanno proprio rivisitato le regole hanno solo rimesso a posto le cose tanto per dire c'è un indice analitico in cui trovate tutto dove si parla di magari magia o condizione di avvelenamento c'è il riferimento alla pagina a cui andare per vedere come funziona lo status di avvelenato il modo di preparare i personaggi è molto più narrativo si parte ad esempio dalla vostra classe non più dalla specie si chiama specie non più razza valentina 83 abbonata per 23 mesi grazie valentina grazie a te bentornata su dungeon dice tv quindi si parte dalla classe perché la cosa importante del personaggio è quello che sai fare più a quale più che a quale specie appartieni quindi si poi la specie ti permette magari di essere meglio ma se tu vorresti fare non so un un ladro oppure vuoi fare che so un esperto di arti marziali iniziamo da lì poi piuttosto ti scegli la specie che più si adatta alla cosa che vuoi fare invece di scegliere una specie e poi da lì declinare qual è la classe che più si addice a quella specie quindi il racconto delle cose è diverso anche il manuale stesso parte dal raccontarti come si gioca di ruolo che cos'è un personaggio come si deve pensare l'avventura insomma è molto più guidato è come se fosse proprio un master che racconta ai giocatori come si fa a giocare sono state sistemate alcune piccole cose quindi immaginate che si è stato messo a posto il tutto per ognuna delle classi tra l'altro molto intrigante le immagini che ci sono perché fanno vedere tutti i tipi che ci possono essere all'interno di quella classe o di quella specie cioè non solamente l'elfo lungilinio alto che capelli lunghi c'è anche quello taracchiatello quello basso insomma le varie accezioni anche della classe stessa maschile femminile come si può declinare che è un po' più facile così soprattutto con le sottoclassi capire che cosa sta facendo perché magari per qualcuno può non essere chiaro la differenza fra un artificiere qua avete delle immagini che vi rendono molto più chiaro e vi possono anche guidare la scelta vedo quel disegno lì è figo voglio fare quello punti il dito voglio fare quello grazie al disegno ma stai parlando di dnd 5.25 e sì cioè allora in realtà non è ufficiale che sia 5.5 ma è proprio un refacto quindi non è uno stravolgimento come è stato dal 4 al 5 o dal 3.5 al 5 è rimettere a posto delle cose ok il paladino se non sbaglio mi hanno segnalato che è meno super power va bene ci sta ok hanno fatto un piccolo nerf al paladino perché altrimenti era troppo sgravato però credo che sia stato messo a posto personalmente sto aspettando l'edizione italiana quindi non ho problemi con l'inglese è proprio che ho notato che parlando nessuna recensione minute spesso se non c'è l'edizione italiana la gente si trova poi un po' in difficoltà e quindi niente quando uscirà l'edizione italiana nel frattempo ci sto prendendo confidenza con gli amici eccetera probabilmente farò poi una minuta dettagliata su com'è questo handbook in italiano buongiorno a te Valentina buongiorno a te non ho un barbaro totemico dell'orso quindi però appunto ci sono delle trovate che secondo me ci stanno posizione 1 attenzione new entry totale Arkham Horror il gioco di ruolo questo è lo starter set che cos'è questo Arkham Horror starter set allora giochi di Arkham Horror ormai se ne sono n.000 ok l'universo Arkham Horror ormai è abbastanza universalmente riconosciuto quindi questo mondo non è necessariamente lovecraftiano cioè sicuramente che ha delle ispirazioni lovecraftiane anche forti però appunto più sugli indagatori detective che devono muoversi eccetera con degli oggetti super potenti eccetera qua impersonate loro all'interno della scatola è pieno di roba ho guardato qualche unboxing americano è strapieno di roba cioè davvero ci sono enigmi da consegnare ai giocatori con messaggi in codici avete delle buste avete delle lettere scritte avete delle mappe degli identikit insomma c'è davvero un sacco di roba wow che viene data ai giocatori e l'avventura è un'avventura ovviamente abbastanza guidata che piano piano insegnerà le regole giocando ecco questa cosa credo che dividerà un po' i giocatori cioè vuol dire che tu inizi a giocare ma un sacco di roba che hai anche solo i dadi come si usa il pool di dadi che man mano puoi decidere di spendere il dado e basta cioè eliminarlo dal tuo pool oppure provare il roll e quindi fare una roba giocandotela un po' non ti dice come usarli finché non ti inizi a farli usare quando entri in un combattimento poi a un certo punto ti trovi davanti all'enigma e quindi anche il master stesso o si fa la sbatta di leggere tutto prima oppure è stato ideato per leggere tutti insieme e piano piano apprendere nuove regole e metterle a posto per qualcuno può essere un plus perché così ci compriamo la scatola ci mettiamo lì alla sera iniziamo tutti a giocare chi fa il master io tu boh ma è e si va per qualcuno può essere un minus perché ovviamente non sai delle cose giochi un po' alla cieca finché piano piano non ti arrivano le regole addosso master stesso quindi forse l'ideale è non essere giocatore di ruolo perché se siete giocatore di ruolo secondo me potrebbe mancarvi l'appoggio del io voglio sapere come si gioca in modo da giocare al meglio ecco questa è l'unica cosa che mi sento di dire non avendolo provato lo sto dicendo dando il mio parere così basato sull'aver visto degli unboxing e aver letto un po' la descrizione sul sito Asmodee eccetera quindi niente vediamo se mi capiterà magari di poterlo giocare vi dico anche un po' un parere sull'avventura vera e propria come messa ho di nuovo sete perdonatemi un secondo eccoci qua direi che è finita la nostra carrellatina continuiamo il nostro carrello ha finito la carrellata andiamo nel carrello quindi ci siamo visti già i primi quattro titoli quinto titolo che vi suggerisco di provare è Trio un gioco che si è vinto anche già dei bei riconoscimenti se non sbaglio è anche addirittura Last Door non vorrei dire scemate ma mi sembra che abbia vinto Last Door o perlomeno è stato segnalato per Last Door ed è in sostanza un gioco in cui dovete cercare di fare tris di carte la cosa intrigante è che voi nel vostro turno chiedete a un avversario la vostra scelta di mostrarvi la carta di valore più basso o più alto se voi volete fare il tris di 3 quindi dovete prima di tutto cercare di liberare i tris di 1 i tris di 2 e i tris di 3 perché altrimenti non potete beccare il 3 cioè su questa mano il 3 non vi verrà mai svelato carino il fatto che potete chiedere le carte e fare il tris anche se voi non avete in mano quella carta io potrei tranquillamente chiudere un tris di 2 semplicemente sapendo che quelle carte ce l'hanno i vari giocatori o delle carte coperte al tavolo super semplice chiaramente c'è una bella dose di memoria da mettere in pista ma è super avvincente l'altra cosa tricky è che chi fa il tris di 7 vince subito cioè o fate 3 tris oppure fate il tris di 7 e vincete istantaneamente quindi anche quello crea tensione il 7 è proprio centrale quindi è difficile liberarlo ma un'altra liberata il 7 poi è pericoloso perché chi fa il tris può vincere anche se voi eravate avvantissimo nella partita a me è piaciuto tanto l'ho giocato tantissimo dal fisico l'ho giocato un po' di partite online su board game arena provate trio secondo me ne vale molto la pena poi che ho messo ah ho messo just one giustone allora just one anche qua credo che l'abbiano giocato un po' tutti mi viene da dire penso che l'abbiate giocato anche voi se non l'avete giocata è il momento di farci una partitella la partita dura ogni manche diciamo che dura 5 minuti mettiamola così 4 o 5 minuti come funziona che un giocatore sta sotto c'è questa carta il giocatore vi dice un numero da 1 a 5 che so 2 e scusate non la vedete aspettate che mi nascondo no allora devo nascondermi così ah ok quindi mi fa vedere la carta dice 2 e quindi la parola da fargli indovinare è circo tutti gli altri giocatori in contemporanea scriveranno di nascosto sul loro blocchettino cioè su questo pirulico coso ok coso bianco una parola deve essere una just one solo una parola che possa rimandare a circo se le guardano fra di loro se due giocatori hanno scritto la stessa parola la parola va cancellata quindi due persone hanno scritto clown e la parola clown viene completamente cancellata tutte le altre parole vengono mostrate al giocatore che sta sotto e deve riuscire a capire da tendone elefante massimo e arena la parola circo se ce la fa si vince cioè è un gioco cooperativo e poi si passa a nuove carte allora ah grazie si ha vinto grazie quindi il trio si è vinto last door buongiorno prof come stai fantastico molto bene grazie sono contento che siete arrivati dopo la fine delle lezioni oggi molto bene avete fatto bene Zelmao lascia il provvedo a Sawyer sui GDT e lei la più studiata ok oggi vi passate questo questo profilo che diventa doppio altra cosa che secondo me vale la pena di giocare è sicuramente Capitan Flip che peraltro ha un prezzo molto basso cioè per il periodo odierno lo trovo comunque con un prezzo molto basso in cosa consiste Capitan Flip voi avete davanti a voi la vostra plancettona nel vostro turno estraete una tessera che potete tenere su quel lato ogni personaggio della nave ha effetti diversi che so questo vi da punti se è la tessera più in alto di questa colonna quest'altro vi darà punti se ci sono uno di loro su ciascuna delle colonne e così via oppure potete flipparla però non sapete cosa c'è sul retro quindi potrebbe esserci un personaggio che non vi da punti o che ve li fa perdere oppure potrebbero esserci temibili cannonieri cannonieri vi da 5 bei punti istantanei ma attenzione al terzo cannoniere che avete sulla nave perdete la partita secca quindi flippare è difficile ci sono carte che vi fanno flippare carte che avete già sulla vostra plancia molto carino e la cosa quindi facilissimo da spiegare si gioca in un attimo c'è una bella interazione anche fra i giocatori nel rubarsi la mappa e poi ci sono mappe diverse ogni mappa ad esempio c'è il kraken il galeone eccetera ogni mappa ha un approccio diverso modi diversi in alcuni casi scusate sto giocando con una brugola in alcuni casi dovete essere più veloci a completare una colonna in altri casi non dovete completare la colonna prima degli altri in altri vi rubate la mappa insomma molto carino si gioca si spiega in un secondo giocate rigiocate le partite super rigiocabile a 26,99 prezzo top secondo me ultima botta che vi do qua sui giochi da tavolo è bag of chips questo me l'ha fatto scoprire il dado critico questo gioco durante un'estate che eravamo al bar ad aspettare gli altri giocatori di pescara e dovete fare delle scommesse cioè man mano dalla busta vengono estratte delle chip non sono fatte a forma di patatine sono dei token tondi ok questo è solo un render da far vedere e voi dovete decidere fra tutte le carte scommesse ad esempio questa vi dice ti do 4 punti se hai 3 gialli e 3 verdi nota ci sono carte che vi danno 60 punti 50 punti cioè 200 punti a seconda della difficoltà ma attenzione perché man mano che si va avanti con le manche che vengono estratti sempre più chips avrete sempre meno opzioni delle vostre carte scommesse e addirittura alcune carte scommesse dovete metterle per fare punti negativi quindi l'ideale è cercare di mettere carte che non centrerete mai ma attenzione perché se la carta è da 210 la centrate con l'ultima estrazione quella varrà meno 200 punti e perdete male a volte facendo 0 si vince la manche proprio per queste modalità qua e c'è un super brivido dell'estrazione dell'ultima patatina perché c'è l'ultima e l'ultimissima si spiega anche qua 10 secondi di spiegazione fate due due esempi tutti sanno giocare una partita tira l'altra me l'ha fatto giocare sono arrivato a casa che già ce l'avevo nel cortiletto perché non ce l'ho comprato istantaneamente cioè non ho aspettato anche di arrivare a casa per avere bag of chips ok quindi abbiamo sui giochi da tavolo ragazzi è il momento di parlare di giochi da tavolo e quindi si parte posizione numero 10 botanicus di questo c'è anche la minuta ve lo dico se ci sono le minute ve lo segnalo se non l'avete ancora vista così potete approfondire allora botanicus è un gioco in cui sarete dei giardinieri che si dovranno aggirare per il proprio giardinetto il giardino è diviso in colonne man mano voi dovrete scegliere le azioni su questa barra quindi prima tutti si devono mettere su una lì provo a zoomare come al solito non so bene come ecco qua allora ci sono delle colonne con le varie azioni da scegliere e si parte sempre dall'alto verso il basso quindi chi si è messo più in alto sarà anche il primo a spostarsi nella colonna dopo per scegliere per primo l'azione le azioni permetteranno di muoversi su queste tracce sostanzialmente tracce che vi daranno dei vari bonus oppure prendere le piante da piantare fra di voi le piante sono di vario livello la 1 diventa da 2 la 2 da 3 si va fino al livello 4 e dovete completare gli obiettivi che avete a fianco della vostra plancettina quindi concettualmente è un sistema di gioco abbastanza intuitivo da un certo punto di vista non c'è molto altro se non questa forte interazione qua nelle barre perché davvero ci sarà una lotta serrata per scegliere la postazione migliore dovete centrare questi obiettivi non è affatto semplice perché poi a fine partita i punti sono dati non solo dagli obiettivi ma anche dalla pianta di valore più alto in ciascuna colonna completa quindi il gioco vi tirerà a cercare di completare le vostre colonne però non necessariamente cioè voi vorrete mettere per completare la colonna la pianta di valore 4 che vi dà un botto di punti però magari nell'obiettivo orizzontale la pianta di valore 4 non c'è non viene richiesta quindi c'è questo doppio tirare da una parte all'altra che lo rende molto interessante questo è il livello base molto family è un approccio che è sicuramente adatto a tutti però potete girare la plancia sul retro le plancie sono tutte diverse l'una dall'altra quindi il giocatore è una plancia diversa è molto più difficile spostarsi quindi il vostro giardiniere farà più fatica a muoversi perché ci sono spazi anche che costano dei soldi il movimento diciamo è ostacolato e avete molti più obiettivi da tenere presente dovete sbloccare gli animaletti mentre qua prendere gli animaletti vi dà punti e basta nell'altra plancia sbloccare gli animaletti vi dà dei bonus istantanei quindi dovete anche incastrare le cose e soprattutto ogni plancia è diversa dall'altra è un gioco che nella versione base secondo me è adatto a tutti non ci sono problemi un bel family plus mettiamola così nella versione avanzata dovete proprio essere un po' più esperti di botanicus stesso quindi però è un buon gioco monkey palace di questo ve ne parlerò a breve gioco da tavolo basato sul lego quindi qua l'idea è piano piano sulla plancia fatta con i pezzi lego vediamo ok plancia fatta proprio con i pezzi lego man mano dovrete costruire archi sempre più alti farete punti sia per gli obiettivi che riuscite a centrare che vi daranno via via nuovi pezzi piano piano ogni turno c'è una specie di motore che vi da nuovi pezzi sia per dove piazzerete i vostri archi devono essere messi in modo che sia sempre più in alto a seconda dove mettete le foglie farete punti ci sono le scimmiette da piazzare che danno fastidio agli avversari quindi è un gioco in cui sicuramente la componente scenica è wow diciamo che è sicuramente rigiocabile però non è che diventate necessariamente più bravi cioè sì a parte qualche colpo d'occhio per trovare il punto migliore per costruire bene o male partite già dalla prima partita ad essere molto scafati e quindi sicuramente è un gioco per tutti chiaramente il fatto che sia marchiato l'ego attira molto anche il gruppo dei non giocatori e questo fa sicuramente la differenza è comunque piacevolissimo da giocare scala bene diciamo allora la scalabilità è così da 2 a 4 non c'è problema ma giocherete sempre con la stessa spenseratezza chiaramente più giocatori ci sono più questa parte centrale è stretta magari non riuscite a mettervi esattamente dove volete perché qualcun altro vi ha soffiato la posizione appena prima in due giocatori è un po' più largo diciamo non dico che proprio ognuno si fa il suo orticello va su dalla sua parte e l'altro non gli interessa però sostanzialmente sarà difficile darsi molto fastidio e più giocatori ci sono al tavolo più questa interazione sarà presente e in qualche modo pressante poi dun imperium allora questa è l'espansione che immortalità allora dun imperium sostanzialmente è un gioco sto dicendo sostanzialmente tantissime volte forse oggi ha già al suo attivo numerose espansioni ed è un gioco che mescola un po' il piazzamento vediamo se trovo un'immagine ok il piazzamento lavoratori ok con delle battaglie quindi man mano voi piazzerete i vostri lavoratori in modo tale da occupare i vari spazi territorio che vi daranno banalmente mettiamola così ve lo sto un po' semplificando delle risorse da poter spendere ma contestualmente qua al centro del tabellone potrete piazzare le vostre truppe che a fine del round dovranno scontrarsi ogni carta che giocate quindi può essere utilizzata o per l'effetto che c'è scritto o per questa cosa del fine round può essere tenuta per il round dopo quindi dovete scegliere bene quale parte della carta vi sta interessando per performare l'azione chiaramente intorno potrete fare anche delle azioni standard stampate sul tabellone che sono diciamo le azioni di amicizia con alcune fazioni che sono presenti su Arrakis e poi c'è questa sfida è una sfida di maggioranza secca cioè non è che c'è molto altro che non chi da di più prende il trofeo migliore mettiamolo così i trofei sono sempre dei bonus che possono essere anche trasformati ovviamente in punti vittoria ed è quindi ogni volta una sfida tra fare tanto bene il turno e magari essere un po' indietro nella parte battaglia e cercare quindi di portare a casa entrambe le due cose quindi con poco sviluppo del tabellone magari avete una battaglia molto interessante però poi vi trovate a piedi nel turno dopo e c'è un po' da bilanciare queste due cose personalmente non ho provato nessuna delle espansioni vi dico la verità perché non è mio il gioco quindi ho giocato sicuramente a Dune è un gioco che mi è piaciuta la partita sicuramente da questo punto di vista non conosco le espansioni quindi probabilmente se ce ne sono così tante è perché i giocatori hanno piacere a introdurre nuove regole nuove cose nella fattispecie vediamo se ci dice l'immortalità ti preciso cosa dice dice che sbloccate il potenziale delle ricerche scientifiche innestate le carte tra loro per potenziare i vostri agenti quindi immagino che ci sia un vero e proprio nuovo pezzo di tabellone ok che viene utilizzato in maniera specifica per questa cosa dell'immortalità e quindi avete nuove carte intrigo nuove burocrati vediamo se c'è un elenco dei materiali tabellone 30 carte mazzo dell'impero 18 carte mazzo dei Tleilaxu una carta riserva 15 intrigo eccetera quindi introducete proprio un vero e proprio nuovo modulo quindi potete sicuramente modulare la vostra complessità della partita a seconda delle espansioni che volete inserire in Dun Imperium che comunque vi dico è un gioco interessante diciamo non un hard game sicuramente però un gioco tosto si gioca tranquillamente un'ora e mezza due ore insomma con tutta la parte da valutare o perché c'è bisogno delle espansioni per sistemarlo ma no guarda Ennio cioè allora personalmente non ho trovato buchi nella partita cioè probabilmente che se ci giochi tanto dopo un po' non dico che hai le mosse già prefatte però sicuramente sai come muoverti sul tabellone cioè non c'è niente che ti possa un po' stupire riesci un po' a prevedere anche le mosse degli avversari quindi credo che sia un po' una necessità di allargare il ventaglio delle scelte in modo da rendere un po' più imprevedibile la partita secondo me è un po' un po' quello più che una sistemazione sì 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 è una frecciatina no no ma infatti anche io non lo so non ho abbastanza esperienza per espormi da questo punto di vista però la sensazione è un po' quella che diciamo che il gioco ha tante cose da tenere presente ma quando impari a tenerle presenti poi è abbastanza fatto ok non dico che è risolto non è che c'è la strategia dominante però sicuramente aggiungere dei moduli ti dà la necessità di doverti muovere su più fronti Forest Shuffle per esempio anche lui ha un po' di espansioni all'attivo nello specifico qua la più venduta al numero 7 è Woodland Edge in una delle espansioni aggiunge nuovi tipi di risorse allora cos'è Forest Shuffle partiamo dalla base Forest Shuffle è un gioco di piazzamento carte di fronte a voi in cui avrete sempre un albero cioè man mano nella partita dal display centrale prenderete degli alberi a cui aggrappare delle altre carte tutte le carte sono divise in due o verticalmente come in questo caso vedete che c'è metà di qua metà di là oppure orizzontalmente come questa vedete che c'è un uccellino sopra e un insetto sopra le carte vanno poi inserite ai lati dell'albero in modo da mostrare solamente la metà che vi interessa ognuno di questi animali funghi arbusti eccetera ha delle abilità diciamo dà dei punti vittoria in maniera diversa a seconda di cosa c'è scritto quindi le farfalle si chiamano fra loro per diversità ci sono che so i carnivori che hanno bisogno degli animali erbivori altri che devono avere certi tipi di alberi specifici e quindi a fine partita avrete di fronte a voi una vera e propria foresta avrete magari una decina di alberi tutti colonizzati da cose intorno che faranno punti appunto in maniera univoca unica non univoca scusate in maniera unica a seconda di quello che c'è è chiaro che alcune strategie sono abbastanza autochiamanti è una specie di amazzonia no perché cioè qua è proprio un gioco di combinazioni di tableau building combinazioni ed è facile sbagliare anche di 30-40 punti nel senso se prendete le carte sbagliate dovete proprio un po' stare bene concentrati perché ogni carta può essere usata in questi due modi e si incastra perfettamente con le altre chiaramente ci sono come dicevo delle combinazioni un po' chiamate che sono le farfalle una volta che avete preso la farfalla e vi chiede di fare punti per farfalle diverse dovrete iniziare a fare strategia farfalla ci sono che so quelli che hanno bisogno di avere le ghiande quindi dovrete cominciare a cercare ghiande da quel punto di vista alberi che hanno bisogno di avere alberi uguali a se stessi o alberi diversi quindi puntare molto su quello quando arriviamo quindi a woodland che inserisce per esempio la categoria degli arbusti è una categoria diversa che si aggrappa alle piante ma potete anche qua metterci intorno delle cose negli arbusti ci possono vivere ovviamente degli insettini eccetera quindi ci sono delle piccole nuove tipologie e quindi è una nuova strada percorribile ora forest shuffle personalmente mi è piaciuto giocarlo ma dal vivo allora online mi piace molto giocarlo mettiamolo così perché i conteggi vengono fatti in automatico dal vivo dovete tenere presente tutti i vari punteggi a volte si va un po' male quindi quello che farete è sapere che state cercando insetti che state cercando cervi che state cercando la seconda femmina di quella specie perché poi fare il conto davvero dei punti è un po' pesante cioè se trovate al tavolo qualcuno che dice allora lato sinistro farei top punti lato destro ne farei altri però dopo posso prendere un'altra carta si va veramente a male cioè è difficile un po' tenere il punteggio con board game arena invece c'è si può fare il calcolo così di contro board game arena perdete il bello dell'impressione al tavolo e un po' di quello che succede sul tablo degli avversari vi guardate proprio un po' il vostro nel frattempo Giorgio mi si è abbonato per 10 mesi bravo Giorgio 15 10 bravo ricordo male l'hanno fatto up per contare i punti a fine partita non lo so mi prendi in contropiede potrebbe darsi forest shuffle up forest shuffle up scoring up si sembrerebbe sembrerebbe proprio un'app online ah fico ok quindi ti dice gli alberi puoi dire quante ne hai dei vari alberi si bravo che ci dici questa cosa avete bianco ok la resumune quindi le carte in alto che so il falco il pellegrino il giardino bello ok bello si confermo che c'è l'app però a quel punto dovresti tenerti il cellulare a fianco e segnarti le cose per dire ah ne ho uno no aspetta allora no non lo prendo e prendo l'acero e vedi quanti punti fai però in effetti con l'app a fianco si può fare grazie grazie love and sawyer bravo grazie allora posizione 6 abbiamo questo matto eroi di barcadia allora è un gioco per tutti quindi attenzione non pensate allora è un dungeon crawler ma appunto per tutti dove i vostri eroi sono dei bicchieroni dove potete inserire la bevanda che più preferite qua è mostrata probabilmente della birra ma potete metterci sicuramente del succo di mela potete metterci una cedrata insomma potete mettere la bevanda che volete la quantità di liquido sono i punti vita del vostro eroe che si sposterà nei vari esagononi dovrà sconfiggere affrontare i mostri che trova all'interno del dungeon con dei lanci di dadi da 20 e chiaramente se subite danni dovete pervi la vostra vita quando arrivate a 0 dovete lasciare lì l'equipaggiamento riempite nuovamente il bicchiere e si riparte allora era necessario avere i bicchieri potevamo usare dei segnalini ovviamente si però la cosa divertente è proprio il fatto che sono dei bicchieri che magari mentre state giocando vi viene sete e avete lì davanti da bere ma non potete bere cioè si potete bere ma state togliendo punti vita preziosi al vostro eroe quindi assolutamente potete bere dal vostro eroe non c'è nessuna regola che ve lo impedisce ma avrà meno punti vita oppure l'avete già bevuto dovete bere ancora non avete tanta sete ah devo bere a tutti i costi segnalo che tutti i materiali sono anti acqua quindi le varie tessere sono plastificate eccetera quindi non c'è problema se anche vi si versano i bicchieri se succedono cose strane potete sicuramente poi lavarle è una cosa un po' matta anche i nomi vedete qua si chiama bottino delle bevute gli eroi si chiamano assenzia sir beve un bot beve un bot quello è merlot invece che merlino è merlot quindi ok è tutto un po' in chiave cacciarona giocate un'oretta appunto dungeon crawler per tutti sicuramente per avere le bevute giustificate al tavolo mettiamolo così se vi piace bere al tavolo e tutti dicono no non si può usate barcadia e assolutamente dovete bere al tavolo coffee rush è un grande ritorno era un po' che ci mancava coffee rush un gioco con dei materiali decisamente carini da questo punto di vista tutti per creare i vostri caffè decorati più carini del mondo quindi vedete che avete i vostri chicchi di caffè le varie foglie le goccioline avete sicuramente la panna avete il cioccolato i cubetti di ghiaccio si mettono tutti i vari componenti all'interno di pratiche micro tazzine trasparenti quindi i materiali sono wow e dovete completare gli ordini diciamo che quindi la cosa finale è fare in modo che nella vostra tazzina per fare la cioccolata fredda con latte abbiate questi tre ingredienti all'interno della vostra tazzina il come si prendono è ci si sposta su questa plancia quindi dovete muovere il vostro personaggino sulla plancia per raccogliere i vari oggetti a seconda di dove terminate raccoglierete oggetti da utilizzare quindi sicuramente è un gioco piacevole per tutti quanti c'è una parte un po' di pressione perché vi arrivano ordini sul tavolo dovete servire se non siete rilassati siete in un vero e proprio caffè quindi arrivano i clienti vi fanno le richieste e voi dovete portare a termine con successo il vostro turno sicuramente il punto di forza grosso di questo gioco sono i materiali super carinissimi secondo me questa è davvero una cosa che sul tavolo è super carino il vostro coffee rush posizione 4 le special pack 2 per alpaca attenzione what is alpaca alpaca gioco ideato da Christian Giove di deck building quindi avete il vostro mazzettino con gli alpaca baby da cui partite e con gli alpaca baby cominciate a comprarvi gli alpaca un po' più power ognuno di quelli che avete in plancia e tra l'altro ogni partita l'allestimento alpaca sarà casuale quindi sempre diverso ogni volta avranno degli effetti speciali solitamente se l'effetto speciale è molto forte valgono pochi punti vittoria se l'effetto speciale è un po' debole valgono un po' più punti vittoria ma non necessariamente così a volte costano tanto e hanno tanti punti insomma quello che dovete fare è decidere quando mandare i vostri alpaca nei recinti dovete costruire prima di tutto il recinto potete mettere gli alpaca e devono essere però tutti con nomi diversi quindi non c'è modo di riempire recinti con alpaca con lo stesso nome ogni alpaca a fine partita nel recinto vi darà punti vittoria quindi finché lo tenete nel mazzo vi da un bel effetto vorrete tenerlo lì perché vi da l'effetto però se volete vincere la partita dovete poi ficcarli qua all'interno dei vostri recinti è molto divertente è abbastanza semplice da permettere a tutti di entrare un po' nel mondo del deck building ci sono però delle scelte non scontate cioè diciamo che se siete forti nel deck building sicuramente vincete la partita non c'è quella roba che comunque c'è un po' botta di chiappa e quindi ma si si vince si perde così no se uno è più bravo sicuramente il deck building ottimizza il suo mazzo riesce a farlo se conoscete bene i poteri degli alpaca ve la giocate meglio e quindi è un gioco sicuramente validissimo che mi è piaciuto molto e qua abbiamo le special pack e quindi ci sono due nuovi alpaca e precisamente quello di Halloween e quello natalizio due festività ognuno dei due con delle abilità nuove da inserire all'interno del vostro mega mix degli alpaca da giocare non conosco questa expansion pack 2 però è una cosa che probabilmente finirà a casa mia a breve perché comunque alpaca è un titolo che ogni tanto rimetto in tavola proprio per questa sua semplicità ma poi il deck building piace molto come meccanica di gioco quindi sicuramente devo ripensare ai vari deck building posizione numero 3 Disney Villainous che non so forse ne ho mai parlato di Villainous qua su High Five non lo so forse si non lo so allora che cos'è Disney Villainous partiamo sempre dal nostro gioco base allora è un gioco in cui impersonerete i cattivi del mondo Disney e già questo è abbastanza figo ognuno dei cattivi ha delle sue carte specifiche quindi ha un suo mazzo ok di cose che gli servono da fare ma soprattutto ha dei suoi antagonisti che guarda caso sono i buoni quindi in questo caso direte maledetto Peter Pan maledetti Alice e il bianconiglio ok vi daranno proprio fastidio saranno proprio personaggi che vi danno fastidio avrete la vostra plancettina e ogni turno vi farete le vostre azioni potrete decidere di guadagnare potere spendere potere per giocare le carte eccetera quando arrivano i cattivi vi compriranno alcune delle azioni quindi le vostre azioni saranno meno performanti e dovrete quindi battere il nemico cosa interessante che non solo ognuno ha il mazzo diverso ma le condizioni di vittoria sono diverse da eroe scusate da cattivo a cattivo ognuno deve trovare alcune carte creare delle condizioni in gioco in maniera diversa l'una dall'altra e quindi diventa totalmente asimmetrico e quindi anche il dar fastidio alla persona giusta al momento giusto diventa importante per il timing sicuramente accessibile a tutti sicuramente il tema disney tutte queste personalità sono sicuramente un plus anche i vari disegni eccetera sono davvero fighi il difetto se vogliamo trovarci il difetto di questo disney villanus è che proprio per questa asimmetricità nel cercare di portare a casa la partita nella condizione di vittoria potrebbe essere un po' lunga la partita o per alcuni giocatori potrebbe essere difficile tipo il personaggio che deve trovare la carta x magari deve scavare un po' più lungo nel mazzo per trovarle in modo che con quella carta possa sbloccare un'altra carta e portare a termine la vittoria fosse stata 5 carte prima nel mazzo magari avrebbe vinto e questa cosa non è del tutto controllabile cioè avete mescolato il mazzo quindi dovete un po' cercare questa cosa chiaramente le vostre carte vi aiuteranno nel portare a termine il vostro compito ma c'è un po' questa parte qua che può trascinarsi ovviamente poi se gli altri si accaniscono tutti su di voi farete un po' più fatica c'è un'altra interazione se d'altra parte siete i cattivi ci sta che avete interazione diretta in questa Field with Fright troverete Oogie Boogie ok per detronizzare Jack Skellington il re delle zucche quindi sarete il Babau sostanzialmente e dovete battere il vostro Jack Skellington nuova espansione quindi con un nuovo personaggio anche di questo direi che se cerco Villain Ouse ci sono già n espansioni quindi avete la possibilità di giocare con Scar con Malefica insomma avete già un bel po' di personaggi pronti all'uso c'è addirittura già il bundle pronto se volete da questo punto di vista quindi fate attenzione che ci sono cattivi questa è Crudelia vi faccio notare che questa è Crudelia Demon che è forse uno dei miei cattivi preferiti cioè il mio cattivo preferito forse è Ade e diciamo che se la gioca molto bene con Kronk ok so che non sembra cattivo ma in realtà aiuta Isma quindi è cattivo anche a sua insaputa pensavo un'app che agiva con fotocamera ah ecco torniamo all'app di Forest Shuffle sai che non lo so cioè magari c'è non so qual è quella che ho trovato adesso su Google l'ho cercato adesso non lo so si sa qualcosa su una possibile localizzazione di Middle Ages non ho informazioni in merito al momento ti direi che cioè tra gli editori con cui ogni tanto mi sento eccetera non mi hanno parlato di Middle Ages quindi non non ti saprei proprio dire se se arriverai in italiano posizione 2 Sky Team di Asmoday quindi uno dei giochi da due più fighi forse di questi ultimi tempi l'ho giocato quest'estate a Giocaosta e me lo son comprato cioè assolutamente stava esaurendosi velocemente ho fatto che comprarlo si è vinto anche il premio del gioco dell'anno cioè wow ragazzi Sky Team uno fa il pilota uno fa il copilota non si può parlare si lanciano i dadi dietro allo schermino e uno deve mettere i dadi dalla sua parte uno dall'altra per creare l'atterraggio perfetto al vostro aereo dovete avvicinarvi via via all'aeroporto cercando di sgomberare la pista piano piano dovete scendere di quota per avvicinarsi dovete cercare di tenere dritta l'assetto di volo dovete mettere a posto i flaps far scendere i carrelli alzare i freni ridurre la velocità insomma dovete gestire un sacco di robe per fare l'atterraggio perfetto e questo è il gioco base cioè la prima partita è bella attesa solitamente però si vince ve lo dico nella prima partita farete fatica al pelo ma questo è il gioco base man mano che cambiate aereo porti cambiano le condizioni c'è il vento quindi vi sposterà vi ruoterà dovete cercare di prendere la pista in un certo modo dovete fare una curva avrete il carburante che potrebbe finire avete la possibilità di usare abilità speciali magari se lo stagista che non è tanto capace avrete problemi di rotta e quindi diventa via via sempre più difficile man mano che andrete avanti anche solo magari che la distanza dall'atterraggio è diversa l'altitudine da cui partite è diversa di uno step cambia completamente la rapidità della partita se sono uguali possono scendere quindi ogni turno basta che viaggiate alla velocità giusta vi avvicinate e scendete se scendete più velocemente chiaramente dovete aumentare la velocità cioè dovete anche stabilizzare le due barre insieme perché basta che fallite una di queste cose cioè non frenate non atterrate non siete a zero e non siete vicino all'aeroporto la partita è persa o l'aereo non è dritto cioè dovete tenere l'aereo dritto avvicinarvi sgombero tutto dovete fare in contemporanea come fare a terra un aereo vero è un gioco molto figo la partita dura un quarto d'ora e niente vi dico ho giocato la partita base abbiamo giocato uno scenario con un mio amico l'ho comprato così l'ho giocato subito a casa con la moglie quindi wow Sky Team bello un bel collaborativo da due e in posizione 1 Signore degli Anelli Duel for Middle Earth in questo caso competitivo da due anche qua una rivisitazione del classico Seven Wonders Duel che è un gioco che ormai è strafavoso c'è anche tutte le sue espansioni in cui dovrete prelevare carte dalla disposizione a piramide quindi man mano che sbloccate le carte le mettete davanti a voi e avrete i benefici della carta che avete sbloccato ma l'innovazione più grossa quindi non è solo una ritematizzazione è che qua si vince solo per condizioni secche non ci sono più i punti vittoria e lo trovo un upgrade che sembra una piccolezza una scemata ma che è una figata perché spesso quando giocavate a Seven Wonders Duel non riuscivate a capire se eravate messi meglio o male cioè c'erano i due tracciati a vittoria secca ma da lì a capire come sono messo coi punti cioè poi c'erano tutte le carte blu eccetera c'erano degli swing a fine partita che non riuscivate a prevedere o meglio si poteva mettersi lì a contare però poi non ci abbiamo voglia durante la partita qua cosa succede che voi o vincete perché qua c'è questa cosa che scorre trasparentemente mi sono comprato anche questo questo perché anche questo è un gioco che sta esaurendosi velocemente ve lo dico me lo sono comprato cioè assolutamente mi sono portato a casa il gioco questa è una cosa che scorre in cui gli hobbit devono scappare dai cavalieri neri ok no che vi stanno inseguendo quindi se i Nazgul vi catturano hanno vinto i Nazgul secchi altrimenti questa scorre in avanti se arrivate in fondo avete vinto voi poi l'altra condizione di vittoria sono avere le associazioni con le razze quindi con le carte verdi se riuscite a mettere insieme tutte le carte verdi diverse avete vinto infine man mano costruirete le varie torri e sposterete le vostre truppe nei vari territori dovete avere le maggioranze su questi territori oppure avere più presenza all'interno della mappa quindi sono tre condizioni che potete verificare sempre con mano che vi mettono fisicamente pressione perché le vedete vedete l'avversario che si avvicina voi potete contrastarlo e quindi è tutto un mossa contro mossa ed è tutto lì in plancia decidere se portarvi avanti con le risorse oppure fermare l'avversario è una decisione molto pesante che rischiate davvero di fare pressione lo trovo un ottimo upgrade certo che dovete avere un po' passione per il discorso della terra di mezzo perché questo tema chiaramente tutto è legato a quello anche i disegni il nome delle torri come sono quindi non è necessario conoscere il mondo della terra di mezzo però credo che possa essere un deterrente perché invece quel mondo lì non lo non lo mastica per conto mio è un ottimo upgrade la domanda che mi pongo ma non ho ancora una risposta è vale la pena tenere tutte e due in collezione o mi tengo solo il duello perché mi piace di più sono due esperienze leggermente diverse quindi due cose un po' diverse forse il Seven Wonders 2 normale ha un tema un po' più di respiro per tutti questo è un po' più stretto però però boh cioè molto figo come upgrade mi finisco il carello Loven Sawyer dice preso al day one che aveva lo sconto del 25% ammazza sconto del 25% bombissima fatto stra bene che comunque il prezzo non è così devastante cioè 29,99 comunque parliamo di 30 euro appassionati di due io posso essere l'anello con un più perfetto ah beh sì se poi non avete nessuno dei due in collezione e vi piace il Segno dei Anelli andate su questo easy easy finisco il carrello dentro vi ho messo l'agenda investigativa 2025 c'è il preorder aperto è di Silvia e Silvia esce il gioco ed è un'agenda vera e propria quindi potete usarla come agenda per il 2025 per segnare i vostri appuntamenti le cose c'è una vera e propria agenda ma dentro ci sono un sacco di enigmi e cose da risolvere è come se aveste ritrovato un'agenda dal 2014 che vi è stata spedita perché c'è qualcosa di non chiaro quindi dovete investigare su questa cosa del 2014 ma con ripercussione anche nel 2025 è una scrittura molto particolare un po' alla nave di Teseo diciamo ci sono appunti cose come se fosse l'agenda utilizzata da qualcuno nel 2014 ma che appunto potete usare come agenda normale 2025 quindi è un doppio oggetto secondo me è molto figo se vi piacciono gli enigmi avete enigmi da portare avanti per tutto l'anno quindi potete giocarlo tranquillamente c'è già un sito preparato in modo tale che abbiate anche tutta una parte multimediale di aiuti community insomma sicuramente l'agenda investigativa credo che sia un prodotto che può far parlare di sé da questo punto di vista comunque a causa di questo duel è partita la scimmia per tutta l'allora di Seven Wonders ah vabbè certo poi se uno va nel collezionismo sfrenato non si ferma più poi vi ho scovato tra le offerte questo fuga dal manicomio che sono 10 escape room tutte legate da una trama dentro ci sono nel cofaretto due scatole e sarete in questo manicomio in cui sono 10 esperienze di escape room con tutti i materiali eccetera tutte giocabili singolarmente ma che vi raccontano fisicamente una storia sono tutte legate fra di loro in alcuni casi addirittura cose che avete scoperto in una vi possono aiutare come indizio per risolvere le cose che sono nell'altra secondo me è un'ottima esperienza Silvia Aerie abbonata per nove mesi grazie wow scusate il mio gritarno ma figurati l'importante è passare a farci un saluto a noi fa sempre più che piacere più che altro c'è il prezzo originale era quanto a 5 euro l'ho beccato a 15 o se vi piacciono le escape room ne avete 10 a 15 euro cioè 1 euro e 50 ad escape room potete giocarvelo secondo me è una bella roba nel fuori tutto San Juan è il gioco di carte di Puerto Rico quindi doveva essere Race for the Galaxy forse non tutti sanno che doveva essere Race for the Galaxy ma si è rivelato molto più complesso di Puerto Rico come target giocatore non tanto sulla profondità sulla complessità sull'accesso quindi hanno detto vabbè Race for the Galaxy ce lo teniamo così com'è quindi Tom Lehman va bene hai fatto Race for the Galaxy e nota è uno dei miei giochi preferiti ever e poi hanno pensato San Juan quindi l'idea è la solita uno sceglie l'azione tutti la performano ma solo uno ha il bonus quello che la scelta ha il bonus e giocate a Puerto Rico con il solo gioco di carte anche in questo caso a 16 euro è un'esperienza se vi piace Puerto Rico potete provarla o se non avete mai provato Puerto Rico male ma volete capire un po' se quel tipo di gioco vi può interessare c'è San Juan pronto e disponibile e chiudo con Dragomino chiudo con Dragomino perché quando mi sono preso il duel Sky Team ho buttato dentro perché non si fa mai l'ordine senza la spedizione gratuita lo sappiamo ho buttato dentro Dragomino per giocare con il bimbo che a 5 anni gioca tranquillamente già con la versione completa con le regole complete è un gioco per target bambini chiaramente se giocate tra due adulti la partita dura 10 minuti non c'è tutta questa soddisfazione ma molto piacevole dovete collegare le tessere domino se riuscite a collegare si draftano quindi a partire al primo giocatore potete rubare il primo giocatore se si collegano a territori dello stesso tipo potete prendere uno di questi token a seconda del tipo di territorio il numero di token è diverso pare al numero di territori e quindi la densità dei draghi cambia a seconda del tipo di territorio dietro al token potete trovare uovo rotto o drago drago vale un punto uovo rotto vi rubate il segnalino primo giocatore molto importante per le scelte e vale un punto modalità base è solo questa quindi c'è un po' di fortuna nel pescare i draghetti perché magari avete 10 token tutti e 10 sono uovi rotti uova rotte scusate nella modalità invece con i laghetti che sulla testa c'è il laghetto pescate due token e ne tenete uno quindi è un po' più facile decidere se prendere il draghetto per i punti o l'uovo per diventare primo giocatore semplice vi dico gli adulti lo troveranno un po' banale giocate a king domino assolutamente king domino un bellissimo gioco ma per i bimbi 5 anni è super adatto super giocabile anche in modalità avanzata siamo arrivati in fondo allora come l'altra volta mi avevate detto mettici i link a tutte queste cose nella nella nel canale telegram quindi ve lo metto nel mio canale telegram nel mio carrello così avete il pro memoria di tutto quello che ci siamo visti insieme potete assolutamente così riguardarlo vi metto i link diretti che potete andare qua su dungeon dice così potete prendere direttamente il vostro gioco preferito e siamo arrivati in fondo io vi ringrazio per avermi fatto compagnia come sempre sono due ore in cui parlo vi dico cose però mi date anche spunti mi chiedete di giochi diversi cerco di spaziare andare da una parte all'altra insomma è qualcosa che mi piace conosco giochi mi dà lo spunto anche per scoprire nuovi giochi perché alcuni giochi che non conosco mi vado a guardare regolamenti magari le guardo qualche gameplay su youtube magari leggo qualche recensione in modo da approfondire un po' la faccenda e alcuni poi entrano in collezione quindi niente wow grazie sempre ci vediamo il mese prossimo acquistate sempre qua su dungeon dice così mi date nuova linfa per scegliere nuovi giochi e niente non mi resta che salutarvi con un ciao e alla prossima ciao voi teo for president se vabbò ciao ciao